Ok, ciao a tutti, siamo live. Siamo live con una birra con il GM, ma perché ci piace ribellarci ai formati? Io sto bevendo un caffè. Io non sto bevendo niente, però sto fumando una sigaretta. Si può dire online sto fumando una sigaretta? La sigaretta con il GM, va benissimo. No, ci servirà tutta la nicotina e la caffeina perché io sono il Nilo, a proposito, io come l'ottimo Luca e ci troveremo a provare a capire come funziona la creazione di personaggi in Traveler, tant'è che questa è una di quelle birre con il GM dove appunto bazzicheremo in una creazione di personaggio di un sistema particolare, perché è un sistema sci-fi diciamo molto realistico, molto dettagliato, molto old school, tant'è che viene dagli anni remoti 80 dunque. Però ci troveremo a utilizzare la versione più recente, quella della Mongoose, seconda edizione. E vabbè, bisogna proprio seguire un flowchart, è abbastanza particolare come creazione del personaggio, tant'è che può anche morire il personaggio durante la creazione. Bellissima questa cosa! Traveler è abbastanza terra a terra, abbastanza severo. I danni per esempio che si prendono potenzialmente durante il combattimento, sia quelli spaziali con le navicelle, sia quelli diciamo personali, vanno direttamente sulle statistiche, dunque può darsi che il tuo personaggio nesce inutilizzabile dopo un combattimento. Dunque vanno davvero ragionate le cose in Traveler, però d'altra parte poi dopo quando raggiungi delle vittorie può essere anche molto soddisfacente. Sì, e tra l'altro la creazione, ma alla fine poi è un po' tutto Traveler, così c'è il gioco in sé, sì è molto tradizionale, è molto antico se vogliamo, però è divertente perché un sacco di cose nel gioco, anche l'ambientazione per esempio può essere, è tutto fatto, tutto costruito, sono tutti mini giochi che entrano a incastro e si creano i pianeti con dei mini giochi, c'è una valanca di tabelle da stare a guardare, la creazione del personaggio è un mini gioco dentro al gioco, quindi è una cosa molto simpatica. La cosa interessante è che effettivamente dopo la creazione del personaggio i personaggi in sé durante il gioco avranno uno sviluppo estremamente lento e anche difficoltoso effettivamente, perché non mi ricordo adesso bene, l'ho letto troppo tempo fa, ma per far crescere le skill eccetera eccetera è abbastanza complicato riuscirci, ci vuole proprio del tempo perché c'è un punto va fatto proprio un calcolo temporale di quanto il personaggio si allena in una determinata abilità acquisita insomma, per farla crescere. Sì, poi c'è anche il fatto che in travelari i personaggi in genere non sono proprio freschi dietro le orecchie, nel senso che parti già che probabilmente hai un personaggio che ha una certa esperienza, una certa vita dietro di sé, cosa che simula la creazione del personaggio e dunque forse ha già visto guerra, ha già fatto carriere, ha già esplorato pianeti, ha già fatto contatto con, che so, civilizzazioni perdute e dunque in Traveler giochi diciamo quasi un po' un personaggio che sta diciamo nel fior dei suoi anni o dopo il fior dei suoi anni un po' in pensione quasi quasi a cercare di godere dei frutti della sua vita o magari in genere pagare i debiti che ha accumulato e aggiustare i problemi che gli sono avanzati dalla sua vita, che appunto parte alla creazione. Appunto tu hai già accennato che si può creare, Traveler ti dà tutta una serie di sistemi strumenti per creare un intero settore o sub settore della galassia diciamo di Traveler che è un setting immenso ed è proprio per questo che è bello e questo lavoro è già stato fatto da Luca, tant'è che abbiamo questo sub settore un po' dimenticato, un po' isolato dal resto della galassia che rimane comunque grande abbastanza da perderci dentro e da rimanere senza carburante tra le stelle e da quanto ho capito è ad ispirazione un po' ellenistica giusto? Sì sì, mentre lo creavo mi sono venuto in mente appunto tutto quello che ha a che fare un po' con l'epica greca, il mito greco, il latino, particolarmente però quello greco e ce l'ho buttato dentro, non c'è nulla di preciso e niente di specifico, è giusto appunto qualche riferimento, appunto Ulisse, Oreste e varie altre cose, anche gli dèi e compagnia bella e soprattutto l'idea politica dell'oligarchia e compagnia bella mi sembrava graziosa e insomma ce l'ho buttata dentro. No, mi sembra interessante trasposizionare la cosa in un setting sci-fi, soprattutto un setting sci-fi di Traveller, dunque abbastanza serio e simulativo e comunque lo spazio e la navigazione di questo e le dinamiche che so con i pirati o con le fazioni avversarie e cose del genere o che so le dinamiche intraculturali tra pianeti, si può trasposizionare in maniera interessante delle dinamiche altrimenti forse storiche o mitologiche, dunque può essere interessante, tipo qui per esempio abbiamo la lista di pianeti che tutti hanno le proprie statistiche, le proprie particolarità, le proprie risorse e diciamo i propri piccoli avvenimenti che si possono scoprire eccetera eccetera ed è tutto più o meno creato proceduralmente e poi Traveller ti dice interpreta tutti questi numeri che effettivamente quel UVP che sarebbe Universal World Profile in realtà il giocatore da quelle cifre e lettere sapendole leggere chiaramente col manuale in mano perché altrimenti diventa un po' complicato ma da quelle cifre e lettere si capisce subito che tipo di pianeta è, che tipo di situazione magari idrica, che tipo di situazione politica e tecnologica e compagnia bella. Atmosferica eccetera eccetera. Esatto. E niente i personaggi in questo mondo come le navicelle, come le armi, come che so i beni di commercio, come qualsiasi cosa sono codificati da una serie di numeri e da questo si può estrapolare qualsiasi cosa. Esatto. E dunque direi buttiamoci a fare questi benedetti personaggi e Traveller è un sistema che va sperimentato anche dal lato dell'arbitro, non è un sistema che che puoi necessariamente memorizzare perché non è necessariamente dei più scorrevoli, però il bello è che appunto anche l'arbitro, diciamo, fa parte delle esplorazioni di questo setting, non solo i giocatori, cioè si scopre insieme attraverso il sistema che cosa sta succedendo in conseguenza alla narrazione e ai dadi, insomma, come cadono. e dunque questa cosa può essere abbastanza interessante. Buttiamoci direi. Vediamo che cosa ne tiriamo fuori, insomma. Sì, per l'appunto questi personaggi adesso li creiamo così, poi magari li utilizzeremo o nella campagna può darsi sul canale di Luca che è il GDR Pilot oppure qui su GDR Live che anche io voglio proporre o una one shot o un paio di one shot, chi lo sa. Vediamo. Dunque partiamo dal flowchart. Eh, per forza, io ce l'ho qua davanti. Il comodo, il comodissimo manuale, che in realtà è molto bello. Il manuale ha solo un problema, grosso, secondo me, ovvero è non ha un indice analitico delle tabelle e essendo pieno di tabelle, sono necessarie le pecette come quando si studiava al liceo perché altrimenti non ci si capisce niente. Io chiaramente non le ho fatte, quindi bisognerà andare un po' a capo. Ok. Allora, vediamo, vediamo. È divertente perché nella creazione appunto si inizia proprio creando il personaggio a zero anni e si tirano due dati da sei, tutto il gioco è basato su due di sei per ogni caratteristica della scheda, che appunto sono le sei caratteristiche che vedete chiaramente sotto caratteristiche. E sono appunto forza, destrezza, resistenza, intelletto, educazione e non è proprio socialità, è più rango sociale. E in più c'è il dato del potere psionico, che però non userei in questo momento. Lo lascerei a parte, anche perché sinceramente non me la sono mai studiata la parte sugli psionici. Nel setting ci sono, da quanto ho capito, sono una casta della società superiore, però è una cosa un po' particolare, magari andiamo prima a passi, prima di saltare corriamo e prima di correre camminiamo. Sì, sì, gattoniamo prima anche, perché adesso i nostri personaggi hanno zero anni. Esatto, toddler, vabbè. Esatto. Neanche. Cosa facciamo? Old school? Nel senso che tiriamo i dadi e li associamo alle statistiche mentre li tiriamo proprio una alla volta e quello che esce, esce, e poi scopriamo cosa diventano queste persone, questi traveler, oppure generiamo le statistiche e poi le assegniamo. Come facciamo? Ma secondo me nella migliore delle tradizioni andiamo, cioè tiriamo e quello che esce, esce. Vediamo le cose assurde. E dunque semplicemente due di sei. Due di sei, sì. Perfetto. Questa volta tra l'altro tireremo dadi fisici, quindi il pubblico si dovrà affidare della nostra parola. Ma usciranno dei risultati orrendi, ho la sensazione, dunque c'è poco da affidarsi. Dunque partiamo da forza, giusto? Sì, esatto. Forza, destrezza, resistenza, intelletto, educazione e sociale. Ok. Bravo. Io ho tirato un otto. Un quattro, non è particolarmente forte il mio personaggio. Poi destrezza. Eh, destrezza, è uscito. Vediamo la destrezza che cosa mi dice. Eh, un ottimo nove. Ma perché io faccio tiri decenti solamente quando si fanno le cose così, a caso, e quando si gioca faccio sempre i tiri di merda? Beh, a me è uscito un undici, almeno si contrasta un po' alla forza schifosa che ha. A me è venuto invece un misero cinque di resistenza. È vero, Endurance, vediamo. Beh, a me è uscito un tre. Non so se... Non so, alla fine puoi decidere anche di, tra virgolette, brutto da dire, ma abortire il personaggio, se non ti piacciono. Però adesso magari non stiamo qui a tirare mille dadi, va bene? Vuoi sapere quanto mi è venuto in intelletto? Vai, vai. Tre. Vabbè, a me è cinque. Sono delle cime. Probabilmente vengono da un pianeta non particolarmente... Però io ho un nove in educazione. Oh, però. Educazione anche io ho un sette. Mi sa che la media cos'è? La media cosa sarà? La media dovrebbe essere tipo sei... Oh no, la media è otto, mi sembra. Ah, ok, ok. E un otto in rango sociale. Quattro. Ok. Sinceramente l'endurance potrebbe essere molto letale per la tre. Non so se... Non so se voglio tenerlo questo personaggio. Allora... Allora, fatto questo bisogna assegnare i dice modifier, che sarebbe quell'altro specchietto di fianco al numero della caratteristica. Ed è, allora, per le caratteristiche a zero è meno tre. Per le caratteristiche tra uno e due è meno due. Per le caratteristiche da tre al cinque è meno uno. Quindi io avrei, per esempio, un meno uno in intelletto. Guarda che cosa mi sta uscendo. Sto ritirando tutto. Mi è uscito un dodicine e un due. Dunque, cinque, rimane il cinque di intelletto. È un pochettino brutta questa persona, mi sa. Però aspetta, educazione a sette e otto? No. No, non esattamente. È solo un po' scema. Poi, tra sei e otto il dice modifier è più zero. C'è le dieci adesso. Dai, questo me lo tengo. La dai? No, perché davvero, tre endurance, tipo, muori durante all'educazione. Cioè, vai, che so, all'accademia militare e muori in un esercizio. No, grazie. Dicevo, tra sei e otto è più zero. Quindi io avrei due più zero. Uno in sociale e uno in forza. E invece nove undici è più uno, dodici quattordici è più due e quindici più è più tre. Che comunque in Traveller anche i numeri piccoli, in senso il più uno, il più due o il meno uno, il meno due, è abbastanza pesante. Visto che si tirano due di sei e in genere, come la media delle statistiche, che è l'otto di un essere umano medio, il risultato che devi fare per una sfida media senza particolari modificatori, o come li chiama qua DM, è un otto. Cioè, in qualsiasi caso il sistema alla base è molto semplice. Tiri due di sei, se con modificatori e cose del genere arrivi a fare otto o più, hai passato la sfida di base, in genere. Qui è interessante perché sul manuale dici una cosa. Se uno ha la caratteristica sociale alta dall'undici in su, è molto probabile che il personaggio in questione abbia una qualche carica nobiliare. No, sono giusto al dieci spaccato. Ok, e ho un più due, ho un più due in duranza. Io invece mi tengo il mio personaggio assolutamente nella media, perché ho due zero, due meno uno e due più uno. Quindi, chissà, tra l'altro un tizio con educazione 9 e intelligenza 3, voglio sapere in che cosa è stato educato esattamente. Però, me lo tengo così, me lo voglio tenere così. Ok, adesso che abbiamo generato le statistiche. Allora, la prima cosa da decidere sono le background skills. Prima di prendere, diciamo, scegliere una carriera, si riceve un numero di skills background uguali alla propria educazione più 3. Education DM più 3, al proprio modificatore di educazione, più 3. Quindi, ad esempio, nel mio caso che ho una 9 educazione, quindi più 1, più 3, 4. Scelti da una lista che lui ti fa. Queste rappresentano le conoscenze che si sono acquisite durante l'adolescenza e permettono di funzionare a un livello basico in una società tecnologica. Esiste una regola aggiuntiva che è interessante per creare dei personaggi, se magari, appunto, se c'è un'ambientazione già precostruita. Ovvero, scegliere da dove si viene. Scegliere da dove si viene, quindi scegliere l'home world. Dovrebbe stabilire, più che altro, che tipo di abilità di background si possono possedere. Faccio un esempio stupido. Se uno viene da un mondo agricolo, magari avrà una serie di background skills che provengono direttamente da un mondo agricolo. Quindi potrebbe avere, non so, una skill che ha a che fare con i macchinari per il lavoro, quindi capacità di qualche tipo ingegneristico. Oppure è solamente uno che si è spaccato la schiena nei campi di grano o di patate, quello che è. E quindi avere più delle cose che hanno a che fare, appunto, con il fisico e compagnia bella. Questa è una cosa carina perché già uno può personalizzare il personaggio e inserirlo nell'ambientazione, già partendo dalle skill del background. Ancora prima di arrivare alla carriera. Sì, allora, non so se tu ti ricordi i pianeti che tu hai fatto. No, no. Però io, vedendo le statistiche del mio personaggio, molto resistente, più che altro, credo che lo faccio venire da Vulcanus, a dipendenza della pronuncia. che è un pianeta di uomini e donne, più che altro, perché a butto non so neanche se sarà un uomo o una donna, però fondamentalmente di persone che sono famosi per essere resistenti e, diciamo, di una certa presenza fisica. Tant'è che il pianeta è noto per le sue leggende legate ai giganti. Dunque, popolazione alta e robusta, diciamo, in confronto alla media del quadrante. Diciamo che mi piace anche che hanno un'impronta molto, cioè il pianeta un pochettino si sta riprendendo, da quanto ho capito, da una depressione economica causata da una guerra passata, se mi ricordo bene. E fondamentalmente c'è un grosso subbuglio sociale di rivoluzione, diciamo, sul pianeta, più che altro, appunto, rivoluzione in quanto le caste sociali, eccetera, eccetera. Mi piace. Dunque io scelgo quello. Poi da interpretare che skill ci potrebbero essere, qui parla di forze della sicurezza molto attive, anche magari mandate dall'esterno, per via di questi subbugli. Dunque potrebbe essere qualcosa di quel tipo, chi lo sa? Per esempio, appunto, il governo è democraticamente eletto, quindi è un sistema democratico simile al nostro, i abitanti sono noti per il loro forte attivismo, quindi potrebbe essere anche un politico agitatore politico il tuo personaggio. Anche sì, potrebbe essere da entrambi i lati forze dell'ordine o agitatore. Sì, sì, insomma. Nostro potere corporativo, ta-ta-ta, beh sì, ce l'hai, ci sono le caratteristiche. Adesso mi stavo dando uno sguardo a quello che ho scritto in passato, perché ho scritto un bel po' di tempo fa queste cose, e mica mi ricordo niente. Allora, tra l'altro io ho un personaggio che almeno dal punto di vista delle caratteristiche è un completo imbecille. Che cosa è? Dunque forse viene... No, il mio è nella media, dunque... No, il tuo ci sta, il mio è proprio stupido, cioè nel senso è stupido, non è che c'è poco da fare. Ma dipende, forse viene da uno dei pianeti un po' meno civilizzati, un pochettino più selvaggi, forse, chi lo sa. Guarda, stavo vedendo... il pianeta del Grande Rosso, Saxorum Piscator. Quello religioso. Esatto. Giustamente, il mio presagio è un fesso, ci cascano. Il Chatonato con lo scopo di analisi scientifiche Saxorum Piscator è cresciuto immensamente da quando i giacimenti della preziosa Ambrosia sono stati scoperti al di sotto della crosta, chiamando mano l'opera da tutto il quadrante. I miliardi di abitanti rimangono noti nel settore con l'offensivo soprannome di Talpe, perché tutta la cultura planetaria si è sviluppata molto al di sotto della superficie del pianeta, le megalopoli scalavate nella roccia, bla bla bla, sostanzialmente energetico. Sebbene i suonativi siano guardati con una punta di disprezzo dagli appartenenti al GCO, è in dubbio che l'unificazione planetaria Orestana ha potuto fare passi da giganti solo grazie agli sforzi di Saxorum Piscator. A causa dell'oscurità in cui i piscani sono costretti dalla condizione planetaria, dalla necessità di preservare l'energia, il costume locale ha favorito la nascita di una moda unica e largamente apprezzata dagli strati superiori dell'elite Orestana è del quadrante. Sul pianeta sono tessuti di particolari abiti in grado di emettere spontaneamente una luminescenza. Sai che cosa mi ricorda? Visto che è anche un pianeta di minatori, dove non necessariamente tutti sono ricchi, posso immaginare che la popolazione comune ha questi indicatori di status dell'aria o della salute fisica attaccati alle loro giacche, ai loro giubbotti, ai loro guanti e cose del genere, è un po' come tipo in Dead Space, capito? Mi piace sta cosa. È che tra l'altro anche qui c'è il Grande Rosso, come dici tu, ha preso piedi. Sì, è qui che è nata, insomma. Ah sì? Ah vabbè, ok. Aspetta che me lo rilego. Il problema di dare posizione della politica estera di Saxia perché il culto spontaneo del Grande Rosso ha attività iniziato il suo percorso su questo pianeta. Ah ok, ho capito, ho capito. Sì che è questa grossa setta, estetista, da quanto ho capito, che mette importanza sugli aspetti, cioè tu devi avere l'aspetto di quello che sei. Dunque, occhio a darti le arie, però anche occhio a non a non, diciamo, rappresentarti in maniera corretta a quello che sei. è una specie di cristianesimo un po' strano, mettiamola così. No, mi piace. Da qui viene l'ambrosia che è fondamentalmente il carburante per i salti dell'iperspazio, giusto? Sì, è un punto, sì, è un minerale che in realtà ce ne sono pochissimi giacimenti, però il governo centrale diciamo del pianeta capitale, del settore che è Orestes, ha trovato la maggior parte dei giacimenti su questo Saxorum Piscator, infatti è da lì che il suo potere poi si è espanso a tutto il settore. Ehi, puoi fare anche qua il food fashion blogger come su Colop Couture? No, ma sto scherzando. Oppure puoi fare... Mi scelgo questo come pianeta Homeworld. Sì, secondo me ti lascia comunque tante opportunità, perché può essere tutto qui, fondamentalmente. Hai la religione dentro, hai l'industria mineraria dentro, hai questa società strana di Talp, può essere interessante. Allora. Ok, quindi, bisogna prendere in base al pianeta che si è scelto, chiaramente non è che c'è una... Addirittura non so se ci sono delle tabelle anche per questo. Aspetta che vado a controllare. Non credo che ne hai fatte, bisogna... Cioè, che io l'informazione che mi hai passato del setting bisogna associare noi del tipo... viene da Magna Officina, potrebbe avere Vax Suite come skill di background. Cioè, cose del genere. Esatto. E dunque? Stavo comunque vedendo se nella creazione del pianeta, nella sezione della creazione dei pianeti, c'è qualche indizio, diciamo, da questo punto di vista, ma no, non c'è. E quindi sì, bisogna semplicemente associare delle skill di background un po' rispettando il profilo da cui... da cui si è... il profilo del pianeta che si è scelto come pianeta nativo. Sì, 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 sì. E tre skill dobbiamo scegliere, io almeno io, perché il modificatore non ho... non ho zero, comunque più DM più tre. Esatto, e tre. E io invece ne ho quattro. Ok. Ecco, una cosa da notare, per esempio, in questa scelta, è l'ultimo numero del codice, dell'UVP, quello dopo il trattino, è il livello tecnologico del pianeta. Quindi automaticamente è chiaro che magari su un pianeta con un basso livello tecnologico sarebbe un po' assurdo avere un personaggio che è uno scienziato, per intenderci. Ho capito che in Traveler va dall'1, tipo l'età della pietra, fino a cos'è il 12, il 13, dove è praticamente vai a manipolare le singolarità, i buchi neri, e cosa vuol dire. E dunque, Vulcanus, dove? Ok. È l'ultimo numero, giusto? Sì. Cazzo, 5 non è? 5 è meno di quanto siamo... meno della società moderna di tipo di presente. Sì, cioè, praticamente significa che la società sul pianeta in generale ha quel livello lì. Quindi molto, molto basso. Sì, al di fuori dei porti, dell'amministrazione, cose del genere, magari la popolazione viene tenuta ad un livello di rivoluzione industriale, cose del genere. esatto. Cavolo, l'unica cosa più basa è Prosperus. Sì, sì, 5. L'unica cosa più basa è Prosperus. Sarebbe il livello tecnologico industriale, proprio. Il nostro, essenzialmente il nostro. Forse un pochino prima, visto che noi siamo nell'era atomica del computer, però sì. Sì, il manuale dice più o meno a pari con la metà del ventesimo secolo. Mi piace perché vuol dire industria pesante. Anni 50, però. Ma proprio pesantissima, tipo fonderie di metallo e cosa che ci sta con il nome del pianeta. Mentre invece, per esempio, il mio, che sembra un pianetaccio terribile, però invece ha un livello tecnologico che è 9, quindi è prestellare. Beh, per forza, perché, insomma, lo utilizzano per estrarre l'ambrosio. Esatto, qui infatti dice manipolazione della gravità, ricerche che possono sviluppare il salto, la tecnologia di salto, che potrebbero occorrere alla fine, diciamo, al passaggio di livello tecnologico. Le culture a TL9, a livello tecnologico 9, possono colonizzare altri pianeti, anche se viaggiare tra le colonie è spesso un viaggio di sola andata. Sì, ma comunque nel senso, consideriamo che i traveler in genere, cioè, sono comunque, i traveler stessi non è che sono a livello della popolazione normale del volgo, sono comunque persone elevate che, adesso lo scopriremo, hanno avuto, avranno una vita che li porta nello spazio, a viaggiare, per l'appunto traveler, no? Esatto. E in più parliamo, comunque c'è il governo, quello, insomma, del settore. Il GCO, esatto. Che ha un, qual è il suo pianeta? Orestes. Orestes, Orestes. Beh, Orestes è un 13, dunque sì, sono praticamente al vertice tecnologico, e dunque magari anche se hai dei pianeti come, che sono Prosperos o Vulcanus, che forse sono specializzati per fare una cosa singola, ma altrimenti un po' arretrati in certe altre maniere tecnologiche, tecnologiche. Hai comunque, che so, Ulixes è 16, cioè è proprio una cosa spaziale, cioè. Beh, giustamente è il pianeta di Ulisse, quindi voglio dire, come minimo, no? Quello è il pianeta praticamente con le megastatue e le accademie militari e le università, eccetera, eccetera, giusto, dove praticamente ci sono delle piccole riservazioni per le persone che vogliono continuare a lavorare i campi e così, perché in teoria non c'è bisogno, allora trattiamo queste persone che fanno ancora questi lavori come se fossero delle cose da proteggere nei musei, cioè, dunque è un pianeta super ultra tecnologico, quello, 16. Sì, no, è il più alto di tu, i più alti sono infatti Ulixes, Ingenium, Orestes e poi ci sono non mi ricordo se, no, Tebbe no, no, sono questi più alti, perché poi gli altri sono 11, 11, Magnofficina, Arena e Quasimaria, che hanno un altissimo livello tecnologico, anche se è un posto di merda. Ma Ingenium è praticamente la vice capitale da quanto capito, nel senso che c'è tutto l'amministratorio lì, dunque per forza devono essere avanzati perché le tecnologie di comunicazione è il pianeta dei burocrati, Ingenium. Esatto, comunque un'altra cosa interessante e poi smettiamo magari di fare i geek sull'ambientazione e cose del genere perché sennò andiamo avanti, è dire che una cosa particolare di Traveler è che anche le informazioni devono essere trasportate, cioè se succede qualcosa in un sistema stellare non è automatico che sul sistema stellare che sta, che so, di parsec di distanza, loro sappiano immediatamente che cosa è successo perché le informazioni viaggiano alla velocità uguale dei Traveler stessi, dunque deve fare un salto in una sonda o magari anche trasportati proprio dai Traveler stessi che in un qualche modo dovranno fare soldi dunque tra commercio e incarichi e cose del genere per proprio sopportare il proprio stile di vita da Traveler che costa milioni fondamentalmente di crediti mantenere le navicelle e cose del genere devono trasportare anche le informazioni da un settore all'altro e cose del genere e da questo si può insomma possono emergere delle grandissime opportunità perché le informazioni non è mica detto che passano immediatamente dunque tu puoi vedere un'opportunità o un pericolo che magari qualcun altro non è conscio e viceversa qualcosa ti può prendere di sorpresa perché non sai che sta succedendo alla stella più vicina infatti c'è anche una delle varie cose che Traveler possono fare per guadagnare soldi durante i viaggi è quella di portare la posta da un piede dall'altro o che so di intercettare della posta o che so di modificare della posta può essere molto è vastissimo il campo di azione ok tornando alle nostre background skills allora tu avevi preso come pianeta vulcanus dunque industria pesante industria pesante ed è trade code a P-O e L-O che starebbero a dire P-O povero sì sì e L-O a bassa popolazione ok ok dunque industria pesante però automatizzata esatto e dunque io direi meccanica ok mentre io invece che mi sono preso scusate ho D-E-In che sarebbe a dire D-E-Deserto infatti è un deserto ghiacciato e in che dovrebbe essere industriale esatto ok vediamo meccanics allora e comunque prendiamo e comunque sono skill di background dunque prendiamo un zero dentro non abbiamo sotto specializzazione lo zero vuol dire che ne capiamo qualcosa perché l'abbiamo assorbito proprio per osmosi nella nostra vita lo zero vuol dire che non hai dei malus perché se tu tiri su qualche cosa che non hai neanche un minimo di conoscenza hai un meno tre hai un DM di meno tre cosa che è abbastanza può essere devastante sì allora quindi allora io vengo da questo pianeta di minatori e posso avere addirittura quattro ben quattro skill penso che mi prenderò allora mi prenderò drive perché qualcuno le dovrà purportare i carrelli i carrelli a sospensione magnetica perché vengono caricati di ambrosia sì ci sta benissimo allora meccanico e poi dopo devo prendere ah profession c'è proprio professione cosa sono a dire c'è poi mettere minatore esatto ecco infatti la prenderò professione minatore possiamo andare a minare asteroidi ok si fare assolutamente no stealth per carità di dio steward no streetwise survival forse mi prenderei streetwise perché comunque non è proprio facile vivere tra i minatori in un pianeta del genere e mi vado un attimino a vedere la ando un attimino a vedere il mechanic cosa cambia rispetto a ingegneria beh c'è ingegneria aspetta che magari prendo ingegneria e ti lascio meccanico se vuoi ok dove è ingegneria sotto drive ah no io vedo sull'elettronica ma cos'è sull'altra pagina no vabbè lo metto lo puoi tenere come skill di background davvero penso di sì perché quelle che ti dice il manuale sono solo sono solo dei suggerimenti non è che sì sì poi anzi è proprio segnata mechanic zero anche tra i suggerimenti dai ingegneria allora ti lascio meccanico se vuoi sì perché come ingegnere uno con tre intelligenza non ce lo vedrei come meccanico forse forse nel senso se se fai le le cose appunto ti insegnano a fare una cosa a un certo punto a cambiare due bulloni cose stupide però le sa fare magari sto pensando che cos'altro potrei mettere ingegneria atletica visto che sono abbastanza fisicamente è poderoso o poderosa ok c'è il vulcaniano la vulcaniana culturista vabbè ok no allora la leggo per giusto per chiarezza la differenza tra ingegneria e meccanica il fatto che appunto l'ingegneria almeno in questo gioco l'ingegneria è utilizzata per operare e mantenere astronavi e veicoli avanzati l'ingegneria può essere utilizzata per fare riparazioni su sistemi danneggiati delle astronavi e veicoli avanzati per riparare le semplici macchine semplici e sistemi semplici invece bisogna usare meccanica quindi io permetterò meccanica sì io per quanto sono sul mondo un po' arretrato comunque c'è bisogno qualcuno che sappia utilizzare questa industria pesante che sappia gestire questa automatizzazione dunque ci sta l'ingegnere sai di processi e cose del genere anche se in verità non c'è specializzazione ancora dunque è proprio ingegneria e punto semplicemente sono cresciuto in questo environment ingegneria atletica ci sta e poi non so che cosa bene fare probabilmente sono indeciso tra amministrazione o flyer perché ci sono gli air raft fondamentalmente servono per andare dal pianeta in orbita e visto che comunque è un pianeta industriale ho la sensazione che potrebbe darsi che serve un sacco questa cosa beh sì nel senso in ogni caso è un pianeta è vero che il pianeta in sé non è molto tecnologico ma non è detto che i genitori di questa persona magari non l'hanno mandato all'università o all'accademia militare però sai che cosa ho un status sociale abbastanza alto dieci cioè sono proprio da un passo dal nobile dunque sai che cosa prendo amministrazione dunque forse dunque forse fa parte di una casta un pochettino più alta magari qualche proprietario di qualche piccola fabbrica che ne sai qualcosa leggero ok dunque io le metto amministrazione atletica e ingegneria mentre il mio stupido il mio stupidotto o stupidotta non lo so ha drive mechanic profession e streetwise perfetto è bellissimo perché tra questi personaggi attualmente nessuno sa come si guida un'astronave vabbè ma non sono cose che impari sul pianeta comunque allora vediamo il passo successivo il passo successivo in teoria in teoria sarebbe scegliere una carriera ogni carriera ha un un periodo che cosa significa sarebbe un livello questo livello in gioco è rappresentato da un periodo ogni periodo in si traduce nella scheda con quattro anni di età in più al personaggio quindi noi abbiamo creato le nostre caratteristiche abbiamo creato abbiamo gli abbiamo dato le le skill significa che i nostri personaggi adesso sono dei diciottenni si parte uscendo dalla formazione diciamo d'obbligo tra virgolette o di base esatto da dove si viene va bene va bene e dobbiamo scegliere se vogliamo una pre-career education cioè una educazione di pre-carriera che cosa vuol dire esattamente essenzialmente significa che se i nostri personaggi hanno fatto o l'università oppure se sono andati in accademia militare ho la sensazione che il mio personaggio sia stato sbattuto dalla propria famiglia all'università del del posto effettivamente mentre invece il mio il mio il mio povero il mio povero signor testa vuota ho tutta l'impressione che i genitori abbiano tentato di fargli fare l'accademia militare sì perché per entrare comunque tipo io per l'università per entrare ho bisogno di educazione sette più tra l'altro se ho sociale dei nove più ho un dm più uno ai tiri sì comunque ho deciso che è donna dunque è una vulcaniana culturista donna ingegnera da una famiglia abbastanza importante va beh allora dunque se adesso io vado all'università dove cioè devo fare un tiro brutale oppure cosa devo fare la maggior parte dei mondi ha comunque un'università nelle proprie città principali eccetera eccetera le università sono fornite di comunicazioni di sistemi di comunicazione interstellari di interfacce reti di computer allora che cosa bisogna fare prima di tentare l'accesso a una carriera e anche a una precarriera bisogna fare il tiro d'ingresso dunque cosa succede vediamo se riesco ad entrare all'università oppure se anche io devo andare è caduto il dado per terra vabbè vedo è un 5 hai fatto 5? sì ho fatto un 3 è un 5 dunque sì ah no è un 8 un 8 più 1 9 dunque ce la faccio entro tranquillamente e prendo un altro di 6 e quello rimane sotto il tavolo è andato dietro la scrivania fondamentalmente bene io invece cambio idea scusami per un fatto banale cioè è vero sto vedendo gli entry di eh sì dell'accademia militare e avendo praticamente eh sia endurance che intelligence col meno 1 non mi conviene laddove invece ho un'educazione 9 e quindi forse che mi dà un più 1 e quindi forse mi riuscirebbe più facile andare all'università poi però vedremo con questo intelletto un meno 1 che cosa succederà quindi provo a fare sto tiro e ho fatto un 7 più 1 e lo passo uh anche io sono andato all'università ok ok quindi abbiamo abbiamo capito che i nostri personaggi ognuno sul suo ognuno sul suo pianeta stanno andando all'università che cosa succede adesso nel momento in cui si accede ad una carriera o a una precarriera si guadagnano eh delle skill in automatico bisogna andare a vedere quali sono queste skill leggo la pagina perché tanto eh sono eh le le stesse perché entrambi siamo andati all'università ehm allora scegli eh una abilità a livello 0 ed una abilità a livello 1 dalla seguente lista sì ho visto poi c'è la lista sì esatto admin advocate animali training o veterinary art qualunque astrogation astrogation è fondamentale perché serve a fare i calcoli prima di un di un jump sì sì electronics qualunque engineer qualunque language qualunque medic navigation che serve sempre per navigare con le astronavi perché invece per navigare con le barche è seafarer sì sì profession qualunque e scienza qualunque sì perché quando dici qualunque ci sono le sottospecializzazioni esatto adesso domanda se tu hai già una skill esistente tipo che so io ho sia admin che ingegnere e se le scelgo che cosa succede non le tiro su di uno cioè rimangono comunque rimangono a zero non non si sommano tranne quando te lo dice io mi ricordo che ebbi un attimo di problema a capire questa regola ma in teoria se una skill a zero più una skill a zero non fa uno però una skill a zero che scelgo una skill da uno di progresso diventa uno fondamentalmente esatto esatto e dunque paradossalmente mi conviene praticamente andare a variegare le skill che ho da quanto ho capito e non a scegliere quelle che ho già non che voglio insistere su quelle sto pensando allora cioè nel senso per esempio io ho mi sono messo profession zero come background no? se volessi portarla uno dovrei scegliere profession uno cioè dovrei scegliere la skill che mi fa prendere a livello uno la dovrei la dovrei bruciare così su quella che già ho a zero e dunque che so io voglio alzare il mio ingegnere perché vengo da una famiglia di ingegneri e cose del genere dunque mi brucio quella che la porta a uno giusto? sì e però dopo devo scegliermi una sottospecializzazione o no? sì perché quando hai un un uno significa che ti stai specializzando in qualcosa ok adesso scegliere scegliere è difficile cioè soprattutto magari lo faccio con l'idea che sarò un traveler dunque che se non vado a scegliere ingegneristica industriale cioè cosa potrebbe servirmi magari lo scelgo con l'idea del fatto che la mia famiglia voleva voleva espandersi e allora voleva staccarsi un po' dal pianeta e così non dipendere dai commercianti che arrivano con le proprie navicelle dunque mi hanno spinto a diventare un ingegnere di che so di di jump drive o qualcosa del genere non so quanto specifico devi mettere ingegnere cioè nel manuale ti metti degli esempi o no? aspetta ti stavo appunto vedendo le skill allora specializzazioni di ingegneria m drive mantenimento e operatività delle astronavi delle manovre dei controlli di manovra di un'astronave così come della gravità artificiale oppure c'è j drive maintaining and operating a spacecraft jump drive poi c'è life support che è chiaro quello che significa e power che è il mantenimento dell'operatività di una della centrale energetica di un'astronave queste sono proprio quelle special le specializzazioni sai che cosa power potrebbe essere utile anche per per pianeta insomma dunque è proprio è proprio power plant engineer specializzazione power dunque sono praticamente scotti sei scott esatto sei scotti solo che è una donna e dunque la chiamo scottia scottia io invece mi metto a uno mi metto electronic electronic se mi metto sensori l'uso e l'interpretazione dei dei dati da una griglia di sensori elettronici dai sonde remote all'imaging termale e i densitometri che secondo me sono un pianeta di minatori e figo si delinea già qualcosa va bene dunque e poi dobbiamo scegliere quella zero giusto esatto quella zero ho deciso il mio skill zero è medic perché succedono gli incidenti industriali ma soprattutto sono su vulcanus dunque è un pianeta abbastanza in subuglio e violente dunque può darsi sai che il naso rotto scappa dunque mentre invece io mi sa che mi prendo o astrogation a buffo oppure perché insomma per guidare le sonde devi saperli fare i calcoli oppure navigate guarda navigate se vuoi che so fare andare una sonda anche a livello che so di un asteroide o planetare da punto A a punto B ci sta secondo me molto di più navigate astrogation è proprio da astronave nel senso che calcoli le distanze spaziali e che so gli approcci i giri gravitazionali e cose del genere però vedi tu come vuoi interpretare la cosa adesso stavo vedendo navigation planet side the counterpart of astrogation ah no 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 navigation è proprio is the planet side counterpart of astrogation cover in plotting courses and finding direction on the ground è proprio è proprio pilotare sì sì secondo me ci sta benissimo soprattutto se potenzialmente anche spaziale nel senso usi delle sonde su un asteroide e le navighi da punto A punto B oppure su un pianeta con un veicolo da punto A punto B ma sì metto navigation dai probabilmente sul pianeta quello tuo dell'Ambrosia probabilmente sono i tunnel sotterranei sì tipo ghiacciati esatto dai ok ok quindi questo questo è quello che abbiamo acquisito semplicemente entrando all'università e tra l'altro se non sbaglio dovremmo prendere anche un bonus ulteriore in educazione ed un più uno che potrebbe cambiare il nostro DM vediamo 9 no 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 6 8 più 0 9 11 è più uno quindi è più uno mentre invece a me non cambia nulla dai l'università non mi passa sopra come l'acqua e cosa impara allora adesso noi siamo solo entrati quindi questi i nostri personaggi sono impegnati nello studiare darsi da fare per questi quattro anni ah ti faccio una domanda che è molto tricky come si chiama il tuo personaggio ancora non l'ho deciso però è nuovo perché ok ok perché il gioco ti dice dategli dei nomi subito e dicono fidatevi però vabbè comunque allora lo decido subito allora fammi pensare qualche tonno qualche fissacchiotto oddio adesso ci alieneremo chiunque ascolta che ha il nome che adesso sceglierai no 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 perché stavo cercando una cosa che ha a che fare sempre con con la Grecia con l'antica Grecia adesso però non mi viene la famosa battaglia di Maratona non mi viene il nome di chi fece il famoso la corsa oh Filippide il mio personaggio si chiama Filippide vediamo quindi come si vediamo quindi se riusciamo a superarla sta benedetta se riusciamo a graduarci insomma a prendere il Bejelor io voglio dire solo quattro anni beh bene no riusciamo allora prima però bisogna fare il bisogna prima roll event bisogna tirare un evento che ci capiterà durante questi questi quattro anni prima della graduation giusto? esatto prima della graduation ok ok fantastico e si tirano due di sei basta? ok non ci sono modificatori? no questo no ho tirato io un sei non so che cosa ho tirato io un cinque più tre un otto oddio allora ti unisci ad un movimento politico beh sì sono su vulcanus mi sembra giusto che tipo sono uno studente attivista no? e beh devi anche fare un tiro tu sì devo tirare soc devo fare otto più se ho successo divento una figura diciamo importante dentro questo movimento e guadagno un alleato in questo movimento però un nemico nella società più vasta sì vediamo sociale io ho dei modificatori sociali mi sa che è un più uno vado a vedere sì ho un dm di più uno bellissimo comunque come il sistema casuale di 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 traveller ti porta sempre nel punto giusto no ho fatto ho fatto un set che diventa un set dunque proprio forse faccio parte della nascita o della fondazione di questo movimento ma qualcun altro diventa pezzo grosso dunque dunque si si staglia questa natura attivista del mio personaggio ok tu cosa hai fatto però tu in ogni caso perché vedi che l'otto comunque guadagni un il menallai and an enemy beh l'alleato è praticamente il leader di questo movimento che è un altro studente ok che potrebbe andare a fare lunga strada oppure potrebbe finire su una strada schiacciato da 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 uno stivale ok però vediamo probabilmente la cosa è anche un po' la faccia dei dei miei genitori che vorrebbero che io faccio parte della classe dell'elite della classe dominante ma io simpatizzo con il popolino con gli con i lavoratori e cose del genere e e cerco di unirmi a una loro causa magari ispirato da questo alleato che ho e poi nemico qualcuno della forza dell'ordine un politico può darsi un amministratore locale al quale io sto facendo propaganda contro di lui perché secondo me non favorisce i lavoratori e cose del genere potrebbe essere può darsi il pianeta è democratico però è uscito fuori da un conflitto devastante quindi può darsi che c'è qualcuno magari della vecchia classe politica che aveva provocato la guerra che ne sai vabbè ho scritto alleato attivista nemico politico poi dopo posso posso specificare e dargli dei nomi quando per adesso non è tanto importante però ha già influito abbastanza sulla sulla natura del personaggio è partito anche questo dado tu che cosa hai fatto io ho fatto un 6 quindi vieni coinvolto in un gruppo e metti un fai un patto per rimanere amici per sempre la whatever in the galaxy you may end in qualunque luogo della galassia potresti finire guadagni un di tre alleati wow ok ne guadagno due ho tirato già il di tre e quindi scrivo alleato che alleati sono cioè sono alleati metto per il momento tipo che ne so compagno di studio e cioè che studiano la stessa cosa che studi te o si esatto e dunque potresti avere degli amici che so in una corporazione in un futuro qualcosa del genere esatto e poi metto che ne so un altro potrebbe essere ma perché sono entrambi compagni di studi di studio quindi il primo momento scrivo compagni di studi quindi sono sicuramente gente che ha a che fare o con l'elettronica o con la o con la navigazione quindi magari uno potrebbe essere un pilota e l'altro un un ingegnere elettronico insomma è l'oda e comunque puoi anche lasciarlo un po' sul vago però o cambiarlo dopo perché fondamentalmente siamo all'inizio della carriera e dell'esistenza di questa gente dunque chissà dove portano che queste cose poi le può prendere come spunto anche il GM ha bisogno di un PNG che ti dà magari un incarico beh tu hai un alleato oppure tu hai un nemico che è ok no no e poi è proprio è importante usare come il manuale dice è molto importante usare quasi sempre alleati contatti nemici e rivali soprattutto la distinzione tra nemico e rivale è importante perché il nemico lo incontri una volta e poi non lo incontri più mentre invece cioè quando hai chiuso i conti mentre invece il rivale ti starà sempre alle calcagne vediamo adesso se ci laureiamo perché mica hai detto sì esatto hai ragione allora per laurearsi bisogna fare un tiro in intelligenza uh uh non vedevo l'ora sì se viene fatto che per avere un risultato positivo bisogna fare da un 7 o più se il risultato è 11 o più ci si gradua con onore e poi se ci si grada con onore ci sono dei benefit che sono nella nella tabella successiva è quasi impossibile per me perché ho int meno 1 visto che educazione è di 5 ho la sensazione che sono un po' distratta che scoti è un po' distratta da tutti questi questi attivismi e cose del genere comunque anche il mio personaggio anche Filippide è più è distratto dagli amici mettiamo esatto vediamo eh no ho fatto un 6 di nuovo dunque meno 1 5 non non ce la faccio eh neanche io perché ho fatto un 6 anch'io meno 1 5 e dunque che cosa succede adesso eh veniamo espulsi dall'università non riusciamo a prendere la laurea abbiamo guadagnato quello che abbiamo guadagnato esatto però però usciamo dall'università senza laurea eh probabilmente per disappunto di chi ci è abbondati lì esatto e infatti se si vede il flowchart dice proprio gain skill role for event role for graduation se non ci si riesce inizia una nuova carriera mentre invece se ci si riesce è gain graduation benefits cosa che noi non faremo perfetto allora e dunque dobbiamo andare al prossimo step giusto esatto adesso i nostri personaggi sono dei 22 anni sì ok devo aggiornare ah sì bisogna tenere traccia della dell'età perché appunto se si è abbastanza fortunati o sfortunati non lo so cioè in Traveller si rischia di avere un personaggio di 60 anni tra le mani beh dipendenza di quanto lo vuoi spingere è una tua scelta però spingere il più possibile cioè ti dico io io lo voglio fare uscire cioè dalla creazione tra virgolette non il più presto possibile ma diciamo che non voglio andare avanti all'infinito ok tra l'altro puoi incominciare a prendere durante la creazione anche delle droghe che ti prolungano la vita dunque puoi essere un 60enne che però è virile come un 30enne con un sacco di debiti però esatto perché costano costano letteralmente un occhio dalla testa e dunque adesso dobbiamo scegliere una carriera comunque per quanto non abbiamo esatto descrizione delle carriere allora adesso il il tuo Traveller deve appunto avere prende decidere un periodo di carriera che rappresenterà le esperienze pregresse e le avventure prima dell'inizio della campagna ogni periodo di carriera dura per 4 anni anche se un Traveller sbaglia nel tiro di sopravvivenza o è forzato a lasciare la carriera che aveva scelto ad ogni punto in ogni punto durante la carriera il Traveller dovrà fare dei tiri di dato di qualche tipo la maggior parte di questi tiri sarà basato sulle caratteristiche semplicemente bisogna tirare due dati da 6 aggiungere i modificatori dalla caratteristica specifica e cercare di raggiungere un totale alto abbastanza alto abbastanza da essere uguale o più alto del valore indicato quindi un tiro di intelligenza 8 o più significa tira due dati aggiungere il tuo modificatore dell'intelletto e avrai successo se fai un 8 o più altri pochi tiri ci saranno e saranno dei tiri skill per aggiungere alcuni livelli in una determinata skill per esempio per un tiro di gunner 8 o più significherà tira due aggiungi la tua skin gunner e fai 8 o più per riuscire e vabbè stavo giusto vedendo le carriere allora ogni carriera che si sceglie che sono svariate ha al suo interno delle specializzazioni carrietistiche ad esempio prendiamo la carriera nell'esercito ha tre specializzazioni il supporto la fanteria o la cavalleria si può scegliere chiaramente solo una una specialistica dopo che si è entrati a far parte dell'esercito e ogni specializzazione dà accesso chiaramente a skill e a cose diverse ah sì quando si perde una una carriera cioè se uno esce da una carriera in teoria non ci non ci può rientrare sì hai finito come quella carriera devi fare qualcosa di nuovo oppure tra virgolette ritirarti dalla creazione dunque inizierà la tua vita da traveler ok quindi allora le carriere che possiamo scegliere sono agente che potrebbe essere appunto di polizia o del servizio di intelligence o in una corporazione esercito cittadino drifter che sarebbe vagabondo entertainer marine che sono i corpi speciali sempre militari mercante nevi che sarebbe la forse navali essenzialmente in questo qui si tratta proprio di di astronavi i nobili ladro studioso o scout e poi se succedono dei casini si si potrebbe acquisire la la professione la carriera del prigioniero vediamo se succederà perfetto sto guardando vedo che ci sono anche dei requisiti proprio di tiro di dato che devi riuscire a fare per sopravvivere la carriera prima bisogna prima bisogna qualificarsi poi bisogna sopravvivere esatto e poi bisogna avanzare esatto dunque dobbiamo scegliere una di queste cose capito si tu hai un'idea allora ho preso elettronica professione a zero o navigazione considera anche considera anche un minimo di insomma di statistica che devi avere perché no no se no fallisci sempre io sto guardando pure io la cosa più forte da me è la resistenza però insomma non ho propriamente l'intenzione di entrare nell'esercito se posso dunque oppure sociale oppure educazione dunque vediamo se ci sono cose che hanno quelle tre cose come come requisito sociale beh nobile mi ritiro la vita del nobile non lo so sai che però le specializzazioni sono amministratore diplomatico e dilettante però devo fare un 10 più per qualificare sti cazzi eh sì cioè tiro un di 6 dunque beh però tu c'hai più 1 più 2 più 1 su sociale perché ho 10 di sociale beh non è facile no non è facile poi dopo c'è marine che sarebbe endurance ma non voglio andare nell'esercito se non devo poi dopo avrei vediamo destrezza cosa avevo di destrezza come stavo in destrezza io zero eh tosta eh sì io infatti stavo vedendo o quelle in bisogna considerare anche quelle che magari abbiamo a zero l'importante io credo sia più che altro evitare quelle con che sia meno 1 essenzialmente almeno per qualificarsi per la carriera a me piacerebbe tantissimo scout ma devo tirare su intelligenza cioè devo perché per entrare per qualificare devo tirare su intelligenza però è solo un 5 o più quindi in teoria dovresti fare un 6 per qualificarti cioè non è così impossibile tentare però cioè fondamentalmente l'idea è che mi mandano via da cioè vedono che non sono riuscito a fare l'università e cose del genere non servo ai piani della famiglia dunque sto più che altro gli sto tra le scatole e cercano di disfarsi di me mandandomi via con una qualche navetta esploratrice per sai trovare risorse nel sistema o cose del genere sai da portare all'industria oppure non so oppure potrei fare effettivamente sto vedendo cittadino colonista che cavolo è oppure corporate corporate potrei fare che cavolo è cosa fa il colonista è il colonizzatore di che ne so tipo altri pianeti che poco o che diciamo si occupa appunto di costruire strutture in zone disabitate o in zone poco adatte alla vita eccetera eccetera è il colonizzatore proprio cioè è quello che va lì e pianta la bandierina ho capito tu che cosa vuoi che cosa vuoi fare che cosa ti interessa stavo vedendo perché o avevo preso in considerazione citizen e fare sì o corporate worker non lo so ok che hai requisiti abbastanza bassi effettivamente devi solo tirare su endurance dopo sì effettivamente devi scegliere e poi dopo ti si aprono le sotto le sotto opzioni che non conosciamo e dunque è difficile fare una scelta sinceramente però vabbè eh sulla tabella ci sono guarda anche i ci sono anche i valori che devi fare di sopravvivenza e di avanzamento che come vedi sono tutti diversi sì sì ho visto cioè avanzare è davvero difficile e sono indeciso tra citizen corporate oppure scout e non so se explorer o surveyor lì ma io dico che Filippide voleva entrare nell'aviazione quindi ci proverò a fare la carriera nell'esercito cavalleria in questo caso ma è chiaro chiaramente non vanno a cavallo sarà l'aviazione probabilmente cioè cos'è navy no non navy army ah dunque perché la navy sarebbe no no è vero c'è pure c'è proprio flight in navy sì perché la navy sarebbe proprio le navi spaziali mentre army cavalry potrebbe essere la cavalleria meccanizzata cioè i carri sì sì la cavalleria meccanizzata o che so i veicoli che sono antigravitazionali sì sì powercraft che comunque tu hai drive potrebbe starci è una scelta valida comunque dipendenza se vuoi volare una nave spaziale navy oppure army se vuoi stare più sul no no io pensavo proprio all'aviazione planetaria non interplanetaria quindi army dai io ci proverò con armi ok ok mentre mentre io sono un ingegnere però ho dei problemi ideologici che non vanno d'accordo con la mia famiglia di vulcanus e dunque mi mandano mi mandano via mi mandano via da casa e mi fanno diventare non sono deciso tra esploratore oppure surveyor surveyor o va a cercare delle risorse specificamente eh sì proprio è proprio il sorvegliatore però mentre esplorare proprio vai a trovare dei dei potenziali nuovi luoghi con nuove genti oppure nuove opportunità e cose del genere sai che cosa esploratore ok e dunque devo tirare un 5 più in verità vado giù a vedere sulla lista che cosa succede giusto sì allora scout scout ecco però la differenza è proprio surveyor è proprio you visit borders world and assess their worth mentre invece explorer you go wherever the map is blank exploring unknown worlds and uncharted space ok sai che sì sì va bene explorer nel senso che mi mandano proprio via tipo proprio ciao esatto e davanti ho capito in questo setting ci sono anche dei pianeti che sono rimasti abbandonati perché irradiati però potrebbe esserci delle tecnologie o delle risorse interessanti lì allora letteralmente mi mandano nella zona irradiata i miei genitori tipo sei scomoda hai delle brutte idee beh sei così individualistica e cose del genere allora vai vai ah bisogna vedere sulle sulle professioni tu vedi proprio nella pagina della professione ci sta ci sono dei dei malus che potresti avere addirittura sì ho visto tu non credo che ne hai io non ne ho però no non ne ho perché praticamente no è solo per previous career è la nostra prima carriera che approcciamo esatto dunque non abbiamo io soltanto il malus di intelligenza che è meno uno eh io c'ho il malus in endurance che è meno uno quindi e dunque tiriamo tiriamo devo fare un sei o più anch'io ah ho fatto un otto dunque diventa un set ho fatto un nove che diventa un otto e entro nell'esercito se ti fa venire la cagarella già diventa un personaggio fallitissimo no vabbè quindi intanto ci siamo allora intanto ci siamo qualificati e siamo entrati quindi questo è il primo periodo della carriera si fa il il training di base oppure si sceglie una skill dalla dalla tavola si si sceglie una skill dalla tabella e si tira in questo caso è la nostra prima carriera quindi prendiamo il training di base allora come gun combat 1 posso scegliere eh allora armi arcaiche quindi come archi e e cerbottane armi a energia come laser pistole laser e fucili al plasma oppure slag che sarebbe le armi con proietti solidi come fucili automatici o fucili gauss si e prenderò slag soprattutto in un ambiente di navi spaziali fai un buco si decompressiona l'intero abitacolo comunque poi fatto questo bisogna vedere bisogna fare il tiro di sopravvivenza cioè si sopravvive a questo primo periodo di addestramento che tra l'altro uno nelle forze armate e l'altro in giro per lo spazio tra l'altro l'explorer è il più tosto di tutti di quelli che ho scelto cioè praticamente è un 7 più però vabbè ho anche è di endurance il tiro dunque qui sono anche brava ok dunque stringo i denti e cerco di di farcela dunque devo fare almeno un 5 con 2 di 6 dai non dovrebbe essere troppo tragico io proverò sempre con la con la cavalleria vediamo sopra tiro di sopravvivenza ok ho fatto un 6 più 2 diventa un 8 va bene si ce la faccio io invece no ce la faccio di 1 vabbè ok che cosa ci succede allora se non ci si riesce bisogna tirare per il per il mishap e lasciare la carriera la carriera a meno che non sia diversamente scritto quindi adesso vediamo che cosa che cosa mi succede quale quale guai io combino guidi guidi il tuo veicolo di cavalleria giù per un crepaccio ho tirato un bel 6 ferito tira sulla tavola della ferita oddio qui è dove potrebbe scattare la morte esatto me la potresti cercare sul sul file quella injury table ok aspetta che la cerco injury table vai tirami un d6 ho tirato un 5 ti dice sei ferito riduci una tua caratteristica fisica di 1 e ti lascia anche scegliere fondamentalmente oh che bello la prossima sarebbe stato leggermente ferito nessun effetto permanente e considera che l'1 qui dice sei stato quasi ucciso eh beh sì ok quindi mando giù mando giù forza di 1 che mi arriva a 7 e mi sa che addirittura mi scende no rimane a 0 per fortuna ok e io sono fuori dalla carriera militare il filippide filippide non avrà una carriera militare ha avuto una singola carica di cavalleria esatto e adesso che cosa succede? in tutto ciò sono passati altri 4 anni quindi il mio personaggio ha 26 anni ora ah però hai imparato un po' di dai almeno qualcosina hai imparato nell'esercito esatto cazzo vabbè allora veniamo a te un attimo perché tu invece sei riuscito a fare questi 4 anni decentemente e devi tirare per un evento 2 di 6 vediamo 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 ho fatto un 6 più 2 8 ok 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 allora è questa che trovo una razza aliena ci sono gli alieni nel nostro set ci sono ma cioè ci sono gli esterni da quanto ho capito di questi che hanno fatto parte di questa grossa guerra da quanto ho capito ci sono degli esterni sono alieni ma potrebbero essere essere umani come potrebbero essere degli alieni tentacolari non si sa perché ci abbiamo solo fatto la guerra e dunque è anche interessante perché di nuovo il sistema casuale ci porta a sottolineare la fiction che stiamo creando e a svilupparla perché ho detto che andiamo in quei mondi irradiati in quella cintura che si è creata ha ritirata dopo questa guerra dunque che era nucleare dunque è possibile adesso rego che cosa dice l'evento ehm sì praticamente mh avendo a che fare con con una razza esterna aliena hai l'opportunità di raccogliere eh dell'intelligence cioè delle informazioni su di loro cosa interessante perché non non si sa bene si sa bene che cazzo è successo con sta gente si sa è Ulixis che si è sacrificato giusto sparendone creando proprio questa cintura irradiata che li teneva fuori eh poi devo tirare o Deception 8 più oppure elettronico 8 più eh se ci riesco guadagna un alleato dentro al nostro governo e un DM di più 2 sul mio prossimo tiro di avanzamento proprio perché magari trovo la tecnologia o delle informazioni che portano attenzione il mio lavoro da esploratore d'altra parte se fallisco devo tirare sulla tabella delle sfortune però non vengo dei casini perché proprio Mishaps è proprio casini non vengo aiettato dalla carriera ok e dunque posso scegliere Deception oppure elettronica cioè io non ho nessuna di entrambi dunque che cosa succede in questo caso o malo se ti ho un DM di meno 3 esatto però comunque posso elettronica sarebbe intelligenza forse la stat di base sì mentre Deception sarebbe sociale giusto sì e dunque scelgo Deception dunque magari troviamo qualcosa e cerco di nasconderlo da che so al mio mentore sul pianeta troviamo qualcosa e cerco di nasconderlo per poi svenderlo e fare carriera io ai costi suoi o qualcosa del genere esatto e dunque io di sociale credo che ho un più uno fammi ricontrollare sociale più uno sì perché ho un 10 e dunque diventa un meno 2 solo e devo fare 8 diventa un meno 2 devo fare un 10 fondamentalmente e faccio no faccio un 4 dunque che diventa diventa un 2 dunque niente e dunque devo tirare sulla miss app giusto esatto che sono i miss app di carriera comunque sì 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 vediamo 3 la nostra navicella viene danneggiata e fondamentalmente devo andare a fare tipo l'autostop spaziale per riuscire a ritornare alla base più vicina e comunque guadagno un D di contatti e D3 cosa vuol dire D3? ti tiri un D6 e dividi per 2 sì ok facciamo prima e ti dico perché guadagno un D3 di nemici perché praticamente ci dividiamo troviamo una cosa e cose del genere così c'è un po' di concitazione cerco di fare questo escamotage ma ci porta a danneggiare la nave ci dividiamo e quelli del mio scouting team adesso mi odiano ok e il contatto probabilmente è quell'altra persona con la quale volevo fare questa cosa che ci siamo trovati d'accordo dunque un Dado di un D6 di contatti o le persone dunque due contatti nello scouting corps tre nemici incluso il mio mentore ok e due alleati dunque gli altri due con i quali sono rimasto praticamente su questo pianeta e ho dovuto tornare a casa con un'altra navicella ok ok e poi comunque continuo nella carriera giusto? e infatti devi fare il tiro di avanzamento fantastico l'avvenzamento è educazione 7 più e io di educazione avevo un più 1 dunque devo fare un 6 meno e faccio un 6 più 2 8 dunque 9 sì sì ce la faccio vado avanti forse 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 c'è chi c'è chi magari con sto mentore che però adesso è diventato il mio nemico mi fa guarda ho capito che cosa cercavi di fare però prima che puoi fregarle a me prima che puoi fregare a me tu devi impararne ancora di cose carissime fregare queste scoperte a me allora quindi vediamo sulla sempre sulla flowchart che cosa succede con l'avanzamento ok commission non c'era tra l'altro ti do una buona notizia cioè il basic training tu prendi tutte le skill che sono nella lista delle service skill della tabella service skill a livello zero per il tuo training di base per esempio tu prendi zero in pilot zero in aspetta aspetta se me lo puoi dire mentre allora pilot pilot zero in pilot dice di che cosa no zero e basta zero e basta ok poi dice zero in survival survival dove sei l'ultima l'ultima colonna survival zero ho capito esatto ok va bene poi mechanic zero ok sì astrogation zero astrogation zero back suit zero e gun combat zero ok dai sappiamo sappiamo entrambi usare tu un po' meglio che me e dunque anche tu prendi delle cose comunque sì prendo cose in più allora drive o back suit mi prendo drive che mi va una poi deciderò che cosa poi prendo athletics zero ah io devo scegliere pilot small craft o space craft a questo punto direi space craft visto che sono dovuto tornare dalla pampa in mezzo dal nulla poi recon zero dove sta eccola mili zero e heavy weapon dai è così non hai imparato solo gun hai imparato esatto e adesso devi aggiungere se non l'avevi già fatto prima i famosi quattro anni in più però mi sembra l'avessi già fatto prima sì l'ho già fatto 26 anni sì sì cerco di andare avanti tutti i corsi io nuovo giro nuova giostra tu potrai tranquillamente proseguire nella tua nella tua carriera di scout invece filippide dovrà trovare una nuova una nuova occupazione ok dai vado vado avanti magari mentre devo tirare comunque il survival giusto sì dunque tiriamo il survival devo fare endurance almeno 7 io un più 2 dunque 5 o 10 tranquillamente praticamente 12 ho fatto e dunque devo tirare poi dall'event table se ho capito bene allora se hai fatto il proprio il tiro per solo si devi tirare dall'event table sì vediamo 5 ah faccio un servizio esemplare dentro gli scout prendo un dm più 1 a qualsiasi roll di beneficio to any one benefit roll ok a un tiro di beneficio i benefit sono quelli che poi prendi quando esci dalla carriera e si vede ah dunque faccio un buon lavoro cioè non sono non sono più un cadetto ma adesso divento effettivamente uno scout esatto cioè tu segnati da qualche parte che hai sto più 1 al benefit roll perché poi il benefit roll verrà fatto tutto il calcolo dei benefit della carriera verrà fatto quando si decide di basta non voglio più andare avanti con la storia pregressa del personaggio va bene dunque devo fare adesso l'avanzamento giusto sì l'avanzamento devo fare edu 7 più edu ho solo un più 1 e dunque devo fare un 6 o più ho fatto 6 più 1 che diventa un 7 dunque sì diventa un 8 ok sì ce l'ho fatta proprio adesso sei esploratore livello 1 sono fiero di scozia in più avevamo saltato sta cosa hai visto che all'inizio quando prendi ti qualifichi per una carriera prendi tutte le basic training mentre invece quando tu continui non prendi le basic però scegli da una tabella della tua della tua della tua carriera vedi skids and training ci sono un sacco di tabelle puoi scegliere o personal development o service skill o advanced education oppure quella la propria della della tua classe tu hai detto explorer quindi explorer tiri un di 6 e rispetto alla tabella che hai scelto guadagni quello che c'è scritto dunque posso fare posso scegliere da queste service skills advanced education eccetera eccetera che mi richiede educazione 8 ce l'ho bene personal development è figa perché effettivamente è l'unica che ti dà accesso o a degli avanzamenti di caratteristica oppure che ti fa prendere jack of all trades che non non è una skill che si può prendere liberamente c'è anche c'è anche nell'e advanced comunque jack of all trades ti dà un più uno sì cioè ti dà un più uno in tutte le skill non addestrato quindi invece di avere un bonus di meno un malus di meno tre avresti meno due ah ho capito avendo tre in jack of all trades anche i tiri delle skill non in cui non sei addestrato li tiri con zero ho capito e devo scegliere cavolacci devo scegliere mi interessa service skills perché praticamente sono tutte cose che ho già e che mi piacerebbe alzare ogni singola cosa mi piacerebbe alzare lì in verità d'altra parte d'altra parte c'è advanced education che è dentro jack of all trades sì 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 oppure explorer explorer che è dentro delle cose un pochettino più specifiche penso che piuttosto che sto vedendo che explorer piuttosto tiro su service skills dunque devo tirare un di 6 ho fatto un 4 il 4 cos'è in service skills diventa astrogazione ok Filippide invece dopo il suo tentativo triste e ridicolo di entrare nell'esercito se ne torna a casetta sul suo pianeta e decide di lavorare all'azienda di famiglia quindi sceglierò professione citizen worker nel particolare vediamo se ci riusciamo perché con questo personaggio tutto è possibile per quanto fa cagare devo fare un tiro di educazione 5 più per potermi qualificare quello ce la dovrei fare e invece non ce l'ho fatta perché ho fatto un 3 più 1 4 e non ce la faccio e dunque che cosa succede? eh non succede nulla cioè cosa diventi un drifter? cosa va? allora devo devo fare un devo fare un tiro in cui posso o faccio un tiro per la la leva militare di nuovo oppure fare il oppure scegliere di fare il drifter vediamo questo tiro per la leva militare come funziona cioè decidono decidono non puoi più decidere tu che in che branca vuoi entrare ma decidono loro in che branca entri esatto ti puoi o iscrivere alla leva o essere randomicamente inviato ad uno dei servizi militari oppure puoi spendere quel periodo quel periodo della vita a viaggiare attraverso lo spazio conosciuto come un un vagabondo senza nessuna carriera o proposito un traveler può entrare solo una volta nella nella leva durante la la propria vita e allora e allora lui ci riprova a entrare nell'esercito a casa non l'hanno voluto non sei riuscito a rinserirti nella vita civile devo tirare un D6 e vedere dove vado a finire incredibilmente Filippide torna nell'esercito ho fatto questo tiro è uscito un 2 sulla la tabella della leva militare è riuscito armi assegnamento qualunque però non verrà assolutamente impiegato nella cavalleria invece verrà messo dietro le linee a fare il supporto alle operazioni militari in questo caso devo le basic basic training già le avevo scelte quindi devo scegliere una tabella e provo su personal development è un 1 e aggiungo 1 a forza quello che avevo perso prima ok alzi un sacco di pesi esatto è andata così a questo punto si va di survival role per il supporto devo fare un 5 in endurance in cui ho un eccezionale meno 1 e non ci riesco e rivengo cacciato che dramma e rivengo cacciato è la filippide è sfortunatissimo ma tu in questo periodo allora hai avuto un beneficio o no perché sì sì ho alzato di 1 a forza ah ok fantastico devo tirare però sempre sulla tabella dei casini vediamo che cosa succede ho tirato un 3 viene inviato in una veramente poco in una regione veramente poco poco piacevole una giungla una palude un deserto un picco ghiacciato urbana quindi immagino immagino sono stato inviato su su Vulcanus il pianeta di il pianeta di di Scozia mentre ci sono le elezioni ok e quindi c'è il delirio perché è un pianeta altamente politicizzato per combattere contro la 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 guerriglia ho capito ma io sei un reservista e ovviamente cosa ti fanno fare no ti sbarcano a picchiare i civili la cosa più sfigata e terribile viene coperto dallo stress dagli insulti scusami dalle di 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 ferite o perché il governo desidera ah sì coprire l'intero incidente sì sì ci sta con Vulcanus ci sta incrementa recon o survival di un livello beh beh carino sì non è male ma guadagni anche un un nemico vabbè capo capo della rivolta e niente sono di nuovo fuori dall'esercito non vedete che è una vittima del sistema è bellissima la creazione di personaggi di Traveler scusa noi adesso abbiamo cos'è 30 anni giusto sì adesso abbiamo 30 anni 30 anni nella vita va bene quanto è un realistico 30 anni e non hai combinato un cazzo niente comunque no io mi sto abbastanza divertendo però vabbè dai almeno qualcosa tra l'altro che skill decidi di guadagnare tra ho preso Rickon sì secondo me è fico Rickon sì sì ma infatti questo personaggio la prossima la prossima cosa che farò è cercare di fare il ladro secondo me sei finito dalla parte sbagliata cioè hai cercato di fare il bravo ragazzo e adesso fa un culo non funziona ok dunque adesso fondamentalmente ho 30 anni io continuo nella mia carriera dopo dopo che torno da Vulcano ho avuto qualche incontro diciamo di disappunto con i miei genitori ho incontrato i miei fratelli che sono alla guida del loro diciamo di questa di questa di questa corporazione e magari continuano a fare i mangioni un po' come i miei genitori e dunque sulle spalle della gente di Vulcanus a lucrare cose del genere dunque continuano le dimostrazioni perché non sono gli unici a fare così e io me ne vado schifata e torno nel servizio degli scout per vedere se magari oltre alla alla civilizzazione oltre al raggio di quello che conosciamo c'è qualche cosa che che mi porti un po' di speranza e dunque devo tirare il mio tiro di survival perché vado nel terzo giro di carriera si si tu stai crescendo nella tua carriera ma anche te in un qualche modo stumbo vediamo perché dopo questo tiro che avremo raggiunto 34 anni scatteranno le malus e bonus dovuti all'età no ma io ho piena intenzione di uscire adesso comunque aspetta fammi capire allora adesso sono praticamente al secondo rank di scout giusto e sto andando al terzo sì ok sì al terzo rank di scout divento senior scout e ricevo pilot 1 se ce la faccio e dunque in qualsiasi caso adesso dopo questo giro termino la creazione a 34 anni secondo me è un buon periodo per andare ad avventurarmi nel bene e nel male ok tiro di sopravvivenza devo fare un 7 più però è su endurance dunque devo fare un 5 perché io ho un più 2 sì ho fatto un 9 dunque diventa un 10 ma in verità ho fatto un 9 diventa un 11 tranquillamente il mio fisico vulcaniano è fatto per essere negli scout sull'event table il 4 è scopri un mondo alieno probabilmente uno di questi mondi di confine ricevi uno di animali cavalcare o allenare uno di survival uno di recon oppure uno di scienza posso scegliere sì posso scegliere di uno di questi prendo survival ok uno survival e che diventa da 0 diventa un sì diventa da 0 diventa un 1 ok perfetto dunque tutte queste storie e bel giri in girare ho imparato un po' a sopravvivere ci sta come scout poi dopo praticamente cosa devo fare l'hai presa hai scelto la tabella delle skill e tirato per ottenere la skill in più prima di fare survival ah devo farlo prima sì devi farlo prima vabbè ah ok non l'ho fatto però comunque scelgo sai che cosa scelgo di nuovo mi hanno servito bene scelgo di nuovo le service skills perché sennò mi distribuisco mi diluisco troppo allora un 4 di nuovo ma davvero astrogation se prima avevi 0 ora hai 1 e adesso e adesso posso posso l'advancement devo fare giusto sì ok advancement che è un pochettino piuttosto è un edu che devo fare un 6 devo fare un 6 o più vediamo sì ho fatto un 6 è un 5 cosa diventa un 11 che diventa un 12 sì ok ok quindi sei avanzato e sei diventato scout 2 o 3 credo a questo punto 3 e io ho finito qua quindi tu vuoi uscire cioè nel senso il tuo travel è fatto sì voglio uscire devo fare qualche tipo di cose per l'età e cose così no però ci sta bisogna fare appunto con il momento in cui si esce dalla carriera e diciamo si dice il personaggio è finito bisogna fare prima il role for benefits e monster out sto pensando se fare un altro anno degli scout o meno perché ho tutti gli skill ad uno e mi piacerebbe avere qualcosa a due però però chi mi dice che prendo quegli skill esattamente riesco a portarli a due sai che cosa esce giovane fondamentalmente è felice di finire la sua carriera come l'ha finita e nel pieno delle forze e vuole mettersi in proprio ok per provare i suoi genitori che anche lei sa fare qualche cosa ok quando si lascia una carriera per qualunque ragione si prendono dei benefici materiali da quella carriera rappresentanti rappresentati da denaro equipaggiamento e influenza acquisita durante gli anni di lavoro sono due griglie per questa per questo in ogni carriera cash and benefits se vuoi solamente tirare sulla tabella del 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 denaro puoi tirare sulla scusami puoi tirare sulla tabella del denaro al massimo per tre volte durante la vita allora tu prendi un tiro un tiro benefit per ogni anno per ogni quattro anni che hai servito quindi tu hai fatto tu sei arrivato al livello tre giusto sì e quindi hai fatto tre anni di carriera e quindi hai tre tiri benefit però dato che hai raggiunto il rango terzo no cinque ok quindi tu hai cinque tiri benefit che puoi dividere come ti pare tra hai cinque dati diciamo che puoi utilizzare e puoi decidere quanti utilizzarne al massimo tre in cash quindi crediti banalmente oppure in benefit che sono oggetti aumenti di caratteristiche varie cose ok allora a me interessano molto i benefit perché vedo che c'è che c'è un benefit anzi due benefit che sono scout ship mi piace quanti sono i massimi tiri di benefit che puoi fare non c'è massimale di benefit non c'è massimale solo su cash mi interessa molto di più i benefit che i cash però tiro comunque due di cash perché non posso uscire da una carriera senza uno spicciolo e dunque ne tiro due e non uso i miei bonus su questi tiro due gradi e faccio un 4 e un 5 e dunque 4 sono 3.000 crediti e il 5 sono 5.000 crediti dunque esco con 7.000 crediti in tasca no aspetta 70.000 70.000 cazzo vabbè ok d'altra parte sono i risparmi di una vita comunque ok 70.000 cash on hand 70.000 1 2 3 ok che i credit sono sono i vint no vnt vnt vint sì e poi gli altri vorrei tirarli e qui vorrei applicare il mio più uno perché voglio cercare di prendere la scout chip e dunque li tiro tutte e tre insieme se posso certo vediamo eh sì la prendo la scout chip perché fondamentalmente ho 2 3 e un 6 e avrei un più uno secondo me ti prendi col 6 la scout chip col 3 ti prendi edu più uno e con l'altro 3 gli aggiungi uno e ti prendi in arma oppure potrei cioè non sono obbligato ad aggiungere il più uno se non lo voglio no se non lo vuoi no potrei prendermi edu più due ma cosa serve l'edu come statistica effettiva allora sarebbe educazione è proprio è la summa delle tue conoscenze e come statistica tipo che so posso tirare astrogazione edu oppure sarebbe intelletto astrogazione cioè dipende no credo tu possa tirare anche astrogation edu però adesso nello specifico non me lo ricordo vabbè ci sarebbe da leggere che cosa cavolo è educazione aspetta te lo te lo leggo grazie vuoi che lo cerco io no no ho trovato ok perfetto education è una misura della dell'esperienza e delle conoscenze del traveler del viaggiatore mentre invece intelletto è l'intelligenza e la rapidità della mente e dunque astrogazione cosa sarebbe dipende dipende diciamo se è una situazione tranquilla puoi usarci anche educazione io credo se invece è una situazione concitata tipo ci si spara addosso tra le navi forse intelligenza in quel caso entra sì intelligenza probabilmente se devo astrogare un che so un'uscita da da un da un'orbita che mi porterebbe a incontrare magari un nemico forse allora lì è intelligenza mentre se mi trovo a pianificare che so il un assist gravitazionale per arrivare da un pianeta piuttosto che all'altro e cose del genere magari lì potrebbe essere educazione ed uno perché tipo come leggere una mappa d'astrogazione e cose del genere ok in mia esperienza se faccio così succede cos'ha ho capito ho capito adesso per capire le armi in media perché sono cioè praticamente il 4 e il 5 sono sono armi ma in media le armi costano tanto perché dipende quelle tipo armi gauss o laser costano un botto vabbè ma sono uno scout e girerò come una pistoletta cioè che cazzo dunque no dunque prendo sai mi metto in tasca al più uno e dico no grazie tenetevi l'arma ho la mia tutto quello che mi serve è qui e indico la mia testa ok e ringrazio il mio mentor nemico comunque adesso stavo vedendo per esempio spacecraft operation no per vedere quelle che sono appunto le magari i tiri running of power out course maintenance encounters fuel jump travel allora preparing for jump per esempio il salto deve essere calcolato questa è un'operazione facile quindi al 4 più ce la fai si tira su astrogation ed è non c'è esattamente una credo che te lo lascia a libera interpretazione si lo lascia a libera interpretazione si però per esempio qui dice il check dice un dato quindi un dato da 6 per 10 minuti significa che per farlo ci vogliono un dato da 6 per 10 minuti di tempo e con l'aggiunta dell'educazione cioè nel senso che comunque astrogation è basata su educazione quindi è fatto bene a prendere ok ok no comunque da un 9 diventa un 11 che comunque è un più 1 però mi piace pensare che comunque da tutta questa storia lei è diventata più esperta più sicura adesso vediamo a Filippide scusa perché a Scozia le cose sono andate bene ma a Filippide no no ma qualsiasi cosa succederà perché adesso scrivo anche che è uno scout ship cioè qualsiasi cosa succederà considera che ci sarà una porta aperta di un vascello d'esplorazione ad attenderti allora Filippide non diciamo che è disilluso dai suoi tentativi come dicevi tu di fare il bravo ragazzo allora dice basta e tra l'altro è già grandino lui non ha concluso una mazza per tutta questa vita voglio però io non sono carne da buttare al macello come hanno cercato di fare alla carriera militare e basta cercherò di fregare chi 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 mi voleva scartare perché io valgo di più chiaramente è un individuo non troppo intelligente quindi mi 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 immagino il discorso fatto allo specchio ad alta voce e pertanto cercherà di darsi al ladrocinio specialmente dopo la brutta esperienza vissuta sotto le armi durante le elezioni di vulcanus le le tumultuose elezioni di vulcanus allora dunque devo fare un tiro solo questo solo per riuscire un tiro di destrezza 6 più e per fortuna ho destrezza più 1 ma stando ai tiracci che ho fatto fino adesso tutto è possibile vediamo se mi qualifico per questa professione di ladrocinio ho fatto un 9 più 1 10 direi proprio di sì una volta tanto il tuo talento è lì ok allora andiamo a prenderci la pagina del rug eccola qua meno 1 per ogni carriera vabbè no l'ho fatto comunque ho fatto un 9 10 avevo provato due carriere ok no 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 sì ampiamente allora devo scegliere una tabella scelgo sempre personal development ho tirato un 3 che mi dà endurance più 1 wow e arrivo a 6 vediamo se mi cambio il modificatore vuoi che vado a vedere no ce l'ho qua sì diventa un 0 praticamente un 0 che bello non hai più il meno 1 dai sei diventato un pochettino più duro quello che non ti uccide ti rende forte allora a questo punto devo scegliere la specializzazione allora o ladro o enforcer o pirate cazzo tutte al 6 una intelligenza quindi no perché è quella in cui sono proprio messo male una è resistenza che ora ho 0 e poi forza e un'altra invece è destrezza e intelligenza per salire di grado forse forse ci prova di enforcer che sarebbe il brutto diciamo anzi no però avendo lui a che fare con i sensori e tutto forse no ci prova ci prova di pirata dunque tipo ti fai portare ti fai tirare su da qualcuno della di avi sì della serenissima repubblica pirata la repubblica pirata di avi effettivamente sinceramente sono un po' sei effettivamente caduto un po' tra le sedie e quello potrebbe essere un sistema anche un po' idealistico quello di pirati visto che sono quasi più democratici del governo esatto più meritocratici ok vediamo vediamo di sopravvivere devo fare sempre un tiro di destrezza al 6 o più e non ci riesco ma è incredibile ho fatto un quad ma dai oddio non ci riesco quindi dovrò tirare anche qua su un misshap credo eh eh sì qualche casino mi succede mentre io mi sto leggendo cosa vuol dire lo scout chip c'è uno scout chip che posso utilizzare e modificarlo come voglio però comunque è ancora del servizio scout del governo e potrebbe e sarà richiamato a bisogno e sono cioè ci si aspetta da me che praticamente sì sono agisco per i conti miei però comunque sono ancora in contatto con loro e mi utilizzeranno come che so consigliere o esperto o contatto e cose del genere di tempo in tempo allora sono stato tradito da un amico uno dei miei contatti o alleati mi mi ha tradito e ha finito la mia carriera probabilmente è stato il pilota il mio amico l'alleato pilota che avevo conosciuto al all'università e diventa un rivale un nemico direi direi un rivale e dunque non fai più parte della non sei proprio neanche riuscito ad integrarti in questa serenissima repubblica pirata cioè no no perché questo qua tipo io magari l'avevo interpellato per farmi portare ad AVI in questo complesso di asteroidi in cui vivono vive cioè è costituita la serenissima repubblica corsara di AVI però lui mi ha venduto alle guardie hai capito per fare carriera chiaramente in più tira due due dadi da sei e se tiro un due devo prendere la carriera della prigione fantastico dunque potresti diventare un galeotto e l'unico tiro decente che faccio ovvero un dodici o più sei l'ho tirato adesso vabbè dai sei stato bravo ad evaderla un po' li conosci i sistemi della giustizia e militari e polizieschi dunque esatto e niente quindi adesso il mio personaggio il povero filippide che cosa gli succederà non ho nessun benefit e live di carriera adesso non posso neanche fare il draft il mio personaggio tra l'altro ha 34 anni quindi inizierà ad avere gli effetti della vecchiaia ma porca miseria è una mondezza sto personaggio cioè non è riuscito a fare nulla per forza devo andare avanti ho 34 anni quindi devo prima di riscegliere una nuova una nuova una nuova carriera devo tirare per l'età ho capito ma io nel frattempo che cosa io posso tornare nella mia carriera o sono proprio fuori punto no no il tuo personaggio è pronto per giocare invecchiamento e ferite l'invecchiamento e le ferite possono sia ridurre le caratteristiche possono entrambe ridurre le caratteristiche prima che il gioco inizi ci sono alcuni modi per diciamo rendere migliori gli effetti sia di invecchiare che essere feriti un viaggiatore può prolungare la propria giovinezza utilizzando l'anagatic ma queste sono molto difficili da trovare molto costose illegali e socialmente inaccettabili sulla maggior parte dei mondi o semplicemente impossibili da trovare le ferite possono essere curate utilizzando la medical care insomma le strutture sanitarie sia le droghe che le strutture le cure sanitarie sono molto costose e possono drenare tutte le finanze del viaggiatore un viaggiatore deve tenere traccia di quanto di quanto denaro spende in anagatic o in cure mediche mentre sono in carriera perché tutto deve essere pagato invecchiare gli effetti dell'invecchiamento iniziano quando un viaggiatore raggiunge 34 anni alla fine del loro quarto periodo di carriera alla fine del quarto periodo e alla fine di ogni periodo successivo il viaggiatore deve tirare due dadi da sei sulla tabella dell'età deve usare il numero totale degli anni di carriera come un modificatore negativo quindi quattro su questa carriera più vecchio sei più difficili e più pesanti sono gli effetti dell'invecchiamento su di te il viaggiatore può scegliere quali caratteristiche sono affette dall'invecchiamento quindi adesso io tirerò i miei due di sei con un meno quattro e ho tirato un cinque ok uno più non ho effetto quindi il mio invecchiamento per il momento va bene così comunque me le sto praticamente girando tutte ormai adesso che cosa fai hai provato a fare il ladro e mo fai il drifter che fai cioè mo vediamo il drifter è praticamente giri da luogo a luogo senza si è il vagabondo che a questo punto magari è legittimo però no no c'è sicuramente qualcosa di io sto sto guardando considera che esistono i campaign packages che il gm decide di assegnare al gruppo si e il gruppo si può distribuire le skill dentro al package perché che so magari è una campagna esplorativa di combattimento militare politica e cose del genere allora il gm sa che cosa serve assolutamente dunque hai un pacchetto di skill che puoi distribuire nel gruppo adesso non so se vogliamo farlo oppure no secondo me no perché quello ha senso se poi proprio inizi con quei personaggi diciamo che questi sono solo così da per farsi per farsi due risate sì sono due sono due inabitanti di del settore esatto ma guarda ti dirò che ok non riuscendo a fare nulla di quello che vuole per un per un qualche periodo Filippide sarà costretto a fare l'intrattenitore quindi vediamo se ci se vediamo se ci riesce ho fatto un 5 e per la qualificazione o su destrezza o su intelligenza deve essere 5 o più in questo caso lo scelgo su destrezza quindi ho fatto un 6 e mi sono qualificato e prenderei come derivazione ah intanto mi scelgo la mi scelgo la la in particolare la tabella che fa appunto riferimento alla specializzazione che ho scelto che è giornalista il freelance ho capito ho capito incominci a scrivere giù le cose esatto magari inizio proprio dalla mia dalla mia triste esistenza ma può essere intervisto che è un personaggio che ha comunque una certa esperienza di vita una terribile esperienza di vita ho tirato un 5 e continuo a prendere Recon insomma per scrivere devi andare a beccare le cose interessanti si è tipo un giornalista investigativo quindi vediamo se riesco a passare il il tiro di survival che è basato su educazione in cui io ho un ricco più 1 però educazione devo fare un minimo 7 7 più 1 8 lo passo finalmente hai trovato il tuo calling esatto ho capito cosa fare nella vita da grandino tra l'altro allora bisogna tirare per l'evento mi sono perso la pagina del giorno dell'intrattenitore giusto? si ok vado a vedere anche ok eccola entertainer tiriamo per l'evento ho fatto un 5 uno dei tuoi lavori è specialmente ben recepito e popolare ti rende una piccola celebrità guadagni un più uno un modificatore di più uno ad ogni benefit roll finalmente la gente gli risuona questa cosa tutte queste ingiustizie sfortune si identificano con queste quando ne scrivi ok e a questo punto bisogna andare a fare il tiro di avanzamento che è di intelligenza porca miseria fantastico ho tirato un 7 lo passo 7-1 6 però lo passo ok e quindi rank 0 io continuo e mi prendo altri 4 anni e arrivo a 38 a questo punto devo sempre fare prima di ricominciare tutto il giro devo sempre fare il tiro della vecchiaia dell'invecchiamento ho fatto un 7 meno 5 2 da 1 più non ho malus buono così devo rifare un tiro di sopravvivenza e ho fatto un 5 e fallisco il tiro di sopravvivenza e quindi devo tirare su misshap andiamo a vedere andiamo a vedere che succede il misshap dell'entertainer dai almeno magari non finisci schiacciato da un caro armato tirato un 6 sei forzato sei forzato a chiudere degli articoli o quello che stai facendo a causa della censura o di una controversia il governo quale quale verità quale verità sei a quale verità sei arrivato troppo vicino guadagni un bonus di più 2 alla qualificazione in qualunque altra carriera oddio vuoi farla un'altra carriera tra l'altro avresti avresti un meno a questo punto avresti tipo un meno 3 però un più 2 dunque un meno 1 qualcosa del genere per entrare nelle altre carriere non che prendi una carriera che non ha malus perché hai fatto altre carriere eh buh non so neanche se ci sono il drifter forse non ha vado a vedere il drifter comunque qual è la controversia alla quale ti sei avvicinato troppo dimmi un po' eh perché io probabilmente ho letto quello che hai scritto prima che è stato censurato dunque forse un no il drifter non ha malus automatico qualificazione eh beh sì non c'è non c'è non c'è nessuna non c'è nessuna nessun modificatore negativo però c'è il tiro survival che è abbastanza tosto comunque però puoi scegliere di cosa lo vuoi fare cosa hai scoperto qualcosa su vulcanus qualcosa sui governi ho scoperto che uno uno dei seggi del consiglio del consiglio che regge essenzialmente la la struttura oligarchica di di Orestes che è uno dei pianeti che sono pianeti che ruotano in questo consiglio era tutto pilotato dalla da una delle più grosse dalla più grossa corporazione che c'è nel settore che è la quelle di Ingenium no quelle di Tebe ah la sì la corporazione quella che c'ha le mani dappertutto esatto la finanziaria praticamente esatto beh sì a questo punto a 38 anni suonati penso che si mette a fare no 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 lui lui ci prova comunque e allora forse l'unica cosa è è fare quello che hanno sempre fatto in famiglia ovvero mercanteggiare ho già tirato gli effetti delle tassi giusto o no beh adesso stai facendo un nuovo termine dunque devi ritirarle mi sa sì devo ritirarle quindi questa sarebbe il sesto quindi ho un meno 6 e davvero lo vuoi fare sì l'ho già fatto e ho tirato 0 dunque dunque non lo passi giusto capito no no questo è solo l'invecchiamento ah ok 0 riduco una caratteristica fisica di 1 ah proprio puoi scegliere ok sì e riduco la destrezza anzi no riduco sempre la forza e vado a 7 e a questo punto mi metto a fare l'invecchiamento anzi provo prima a fare il mercante quindi io ho fatto in sequenza esercito una volta esercito un'altra volta il ladro e ho fallito miserevolmente il il giornalista e e basta quindi sono qua ho un meno 4 per cercare di fare il mercante però ho anche un più 2 ereditato da prima quindi ho un meno 2 e per fare il mercante devo fare un tiro di intelligenza bellissimo quindi no senti faccio il drifter e tanti cari saluti perché non ha senso non ce la farei mai il drifter è un suo perché senti no senti provo a fare il mercante provo a fare ho un meno 3 ho un meno 3 e devo fare un tiro di intelligenza 4 o più quindi il che significa è che devo tirare almeno un 7 dai su dai dadi ho tirato esattamente un 7 perfetto 4 e 3 quindi adesso sono un mercante un mercante vediamo quale mercante sai cos'è bello sai cos'è bello ti faccio ridere perché tu hai smerdato appena la 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 l'ITPF la l'Union Tebae Polifunzionale Finanziaria sì che praticamente ha le mani impastate in qualsiasi corporazione importante adesso vuoi fare il mercante sì ok e faccio appunto Merchant Marine che sarebbe quello che lavora sui i cargo enormi proprio per le megacorporazioni quindi adesso sono diventato un loro schiavo ok quindi Merchant Marine mi sono qualificato devo tirare sulla tabella ho tirato un 3 tabella Merchant Marine e quindi Athletics e Athletics mi va a 1 non si chiama schiavo si chiama servitude debitoria è diverso vediamo poi Athletics che derivazioni ha dato che ho 1 ok devo fare il tiro di sopravvivenza che è educazione 5 ho tirato un 7 ho educazione più 1 quindi ho fatto un 8 e l'ho passato tiro tabella degli eventi 5 hai la possibilità di rischiare la tua fortuna o su un affare potenzialmente lucrativo puoi giocare puoi rischiare giocarti un numero di benefit roll ne ho solo uno e roll gambler o broker 8 più se riesci guadagni la metà half as many benefit rolls as you risk guadagni guadagneresti un altro uno se fallisci lo lo perdi in ogni caso guadagni un un livello in qualunque skill tu abbia utilizzato che potrebbe essere molto interessante però occhio che cioè nel senso devi tirarlo senza avere lo skill ho capito eh si cioè praticamente significa perderlo per forza perché sarebbe praticamente devi fare un altro più ma non hai lo skill dunque sarebbe con un malus con un dm di di meno tre giusto sì però considera che lo puoi tirare magari sul sociale o quello che vuoi tu quello potrebbe aiutarti ma no ma aspetta ma io non ho nessun benefit ah no c'è solo uno di benefit se ne hai uno puoi investire cioè praticamente ti sta proponendo se vuoi scambiare un benefit per una skill che potrebbe essere broker o gambler ok gli è andata troppo male a sto tizio nella vita non se lo rischia l'unico benefit che ha cioè perché infatti dice you may nel senso puoi non lo devo fare per forza quindi ok lascio perdere però non può dopo non puoi cioè no aspetta cioè ti dice che comunque in qualsiasi caso se tu vuoi rischiarlo o meno ricevi comunque un gambler oppure un broker cioè lo so ma non me lo posso rischiare così cioè buono lo so ma beh dato sto personaggio è una merda dai me la rischio a me fa ridere che praticamente cerchi adesso di muoverti nel mondo corporativo però sai quanto è corrotto e dunque cerchi di fare un qualche tipo di commercio un piccio ci provo ci provo gambler o broker gambler ovviamente ok eh non ci riesco ho tirato un 8 preciso cosa devi fare un 12 praticamente o un 11 minimo un 11 devi fare un 11 praticamente quindi l'ho perso ma ho perso l'unico benefit che avevo ma guadagno gambling 1 cioè 0 secondo me ci sta perché adesso sei obbligato a usarlo quel gambling esatto sopravvivere devo fare il tiro di avanzamento chissà se ci riuscirò ed è in intelligenza 7 in cui io in intelligenza ho un meno 1 devi fare un 8 vai oh ci sono riuscito quindi adesso sono adesso sono un crewman yeah ok andiamo avanti andiamo avanti 42 anni 42 anni quindi ho adesso ho un meno 6 al tiro di di invecchiamento 0 devo ridurre sempre di 1 una mia caratteristica fisica perché ho tirato 6 6-6 0 e levo forza e che va a 6 e dunque 6 comunque a 0 sempre a 0 facciamo il solito survival roll è su educazione 5 più un dato che è caduto guarda che diventa un mercante di carriera il tuo personale ho tirato un 11 più 1 12 quindi devo tirare sulla tabella degli eventi tirato un 8 sei impicciato in un in un problema legale guadagni tra uno tra advocate admin diplomat investigate investigate perché ci sta con il suo passato e poi tira 2 di 6 se tiri un 2 finisci in prigione oh mio dio a questo punto spero di farlo te devi finire in prigione ho tirato un 2 ti giuro che sfiga a sto uomo no aspetta aspetta quindi me ne vado direttamente in prigione they have a value called a parole threshold at the end at the end of each term in the prisoner career if the traveler advanceman role is greater than their parole threshold it means that their prisoner sentences come to an end and they leave this career dunque praticamente cioè non è mica detto che ti fanno andare dopo un termine no perché appunto la parole threshold la soglia di discussione del caso va tirata all'inizio della carriera come gale 8 ed è un dado da 6 più 4 cioè ma ti vogliono finire dentro di brutto questi della multifunzionale devo stare dentro per 8 anni cazzarola cazzarola uscirei che sarai un 60enne adesso vediamo perché ogni tiro avanzamento che faccio se vado sopra questo 8 esco di prigione essenzialmente questa è la è la regola altrimenti se non si supera non puoi lasciare questa carriera e devi continuare per un'altra serie di anni la prima avventura sarà il jailbreak del tuo personaggio allora ricominciamo la carriera e tiriamo sempre per l'invecchiamento in cui adesso ho un meno 7 ma se è galera dunque non puoi neanche decidere adesso basta ho tirato 9 ho tirato 9 quindi ho un più 2 va bene adesso devo scegliere l'abilità della galera che cosa potrei essere io un ah no devo uscire tra le service skill ok quindi vediamo tiriamo il d6 è uscito un 5 melee unarmed che tu ce l'hai già tra l'altro mi sa infatti mi immagino tipo quando arrivi alla prigione devi dare via i pochi ai veri che hai i vestiti civili in questa prigione tipo ad alta sicurezza spaziale e ti dicono professione e tu cominci tu cominci scrittore vagabondo mercante militare riservista allora vediamo che cosa succede adesso devo sopravvivere ho tre possibilità o inmate che sarebbe semplicemente cerchi di passare il tuo tempo in prigione senza metterti nei casini thug sei parte di una gang della prigione terrorizzando gli altri compagni o fixer puoi riparare you can arrange anything for the right price chiaramente nessuna di queste è decente per me sono tutte terribili in verità non non riuscirei non riuscirò mai a sopravvivere e metterò semplicemente inmate a questo punto ok che è sul survival è di 7 madò su endurance tra l'altro ho tirato un 11 ok e tiro sugli eventi 4 sei assegnato ad un ad un difficile lavoro tira endurance 8 più se fallisci aumenta la tua soglia di soglia di processo di 1 e avevamo detto che era già 8 se riesci invece puoi ridurla di 1 e guadagnare una delle seguenti abilità atletica meccanica o melee sono cose che hai già dunque vediamo ho tirato un 11 quindi la mia soglia di processo è abbassata e diventa 7 e mi prendo meccanica che diventa 1 1 tipo esatto sarebbe stato divertito se prendi il milino esci che non sai fare un cazzo però sai menare bene perché hai tanta rabbia dentro adesso vediamo adesso vediamo se riesco ad avanzare in galera ok ho tirato un 5 non avanzo e che cosa succede se non avanzi in galera e mu vediamo perché effettivamente non mi era mai capitata la carriera la carriera del galeotto semplicemente se non avanzi io credo che rimani rimani in galera guarda che quanti anni hai scusa 46 al prossimo giro al prossimo giro ne ho 50 vabbè dai non sei così tanto vecchio però ne ho 50 e gli anni che stai passando praticamente li scari dal periodo che devi passare dentro giusto sì perché allora un valore chiamato vabbè soglia di giudizio no 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 non c'è una in realtà potrei rimanere in gabbia per sempre capito ok rimango in galera ricomincio da capo adesso adesso ho meno 8 al tiro di invecchiamento non puoi neanche dire faccio il master out no no ho tirato un 6 6 meno 2 6 meno 2 riduci tre caratteristiche fisiche di 1 e quindi vado a 5 di forza è meno 1 8 di destrezza che è 0 e 5 di resistenza che è meno 1 vedi qua cioè incomincia ad essere tipo sì vecchio però ha tante skill nel tuo caso non sei riuscito sei stato buttato fuori da così tante professioni che sei solo vecchio esatto ma così la sai fare eh sia chiaro però adesso tra l'altro non saprei neanche come faresti a incominciare a prendere le droghe anti invecchiamento dentro eh no in galera non lo puoi fare tiro su personal development tirato un 4 e ho preso uno in jack of all trade beh mica male eh sì ma chissà chissà se uscirò mai da sta galera secondo me questo personaggio è condannato faccio il solito tiro di endurance a me credo che è andata molto molto bene 5 non supero il tiro di endurance vediamo che cosa succede con i casini tirato 3 una una gang della prigione mi perseguita puoi scegliere di combattere se vuoi di combatterla se vuoi o se non vuoi perdi tutti i benefit roll dalla della della carriera del prigioniero che ne avresti uno ne avrei uno se combatti tiri melee unarmed 8 8 più se fallisci devi tirare due volte sulla tavola delle ferite e scegliere il risultato più basso se hai un successo guadagni un nemico e alzi il alzi la soglia di giudizio di più 1 oddio mio bellissimo questa cosa combatto chiaramente allora ho tirato un 8 melee chiaramente in questo caso è solo su melee unarmed quindi avrei magari forza meno 1 però melee unarmed 1 quindi va a 0 ho tirato i bonus e malus diciamo si completano ho tirato 8 e quindi ci riesco ho di nuovo la soglia di giudizio 8 però in più hai guadagno un nemico che bello basta avanza qualcuno di quella gang immagino qualcuno che è sopravvissuto ai tuoi pugni rabbiosi il mio personaggio ha 54 anni 8 meno 8 tiro ho tirato un 9 1 quindi non ho malus facciamo sempre il tiro di endurance per vedere se resisto ho tirato 8 meno 1 di endurance si lo passo ho tirato un 9 sulla tavola degli eventi ho l'opportunità di di assumere un nuovo avvocato costa mille crediti per la sua skill advocate tira la skill advocate del tuo avvocato a un 8 o più riduci la tua soglia di giudizio di un dado da 6 allora quindi mille crediti uguale a la sua per ogni punto della sua skill advocate che praticamente andrà in debito a sta cosa esatto sicuro quindi diciamo 4 4.000 4.000 crediti mi segno 4.000 crediti di debito ok devo tirare quindi a 4 di advocate tiro questi due dadi ho tirato un 11 supero ampiamente l'8 e quindi devo tirare un di 6 per vedere di quanto scende la mia soglia di giudizio solo di 2 e quindi va a 6 fantastico ora il mio personaggio ha 58 anni un tiro dell'età che è meno 9 ora ho tirato un 3 quindi un meno 7 wow che cosa vuol dire meno 7 se semplicemente lo fallisci è peggio no è sempre peggio perché adesso devo ridurre 3 caratteristiche fisiche di 2 e una mentale di 1 ho capito cioè piano piano cioè il tuo personaggio morirà di vecchiaia sì praticamente quindi adesso ho 2 in forza mi sa che è un meno 2 7 7 in destrezza che è 0 e 2 in 2 in resistenza questo personaggio è morto wow guarda che stai diventando decrepito davvero lì dentro no ma è proprio nel senso a questo punto non riesce più a uscire di prigione quindi è morto per forza cioè non so sarà qualche cosa nell'acqua o nel cibo o nell'aria in quella prigione però sì esatto posso continuare volendo no ma il trend è lì è che poi dopo un certo punto devi incominciare a chiederti voglio giocarlo questo personaggio cioè sarebbe stata anche divertente l'idea del Galeotto magari tipo cinquantenne uscito con un sacco di voglia di fare la revincia sul mondo però praticamente con questa generazione perché la stiamo giocando di Iron Man anche tra l'altro sì nel senso non sembra che ne uscirai di lì per il momento ho passato un altro survival comunque vuoi giocartela fino in fondo beh me la gioco fino in fondo dai e fuori dalla prigione facendo la sua vita da qualche parte c'è Scotia che fa ma quel tizio che ho conosciuto che gli ho detto che ci sarebbe stata la mia nave ad aspettarla a porta aperte dove cazzo è ho tirato ho tirato di nuovo sempre su personal development e mi è uscito di nuovo jack of all trade beh quello non è male quindi ora ho uno in jack of all trade e quindi ho meno due scusami ho meno uno nelle skill che non mi non 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 addestrate adesso vediamo se riesco a passare il survival l'ho passato vediamo l'evento ho tirato un 11 i guardiani il guardiano si interessa al tuo caso riduce la tua soglia di giudizio di meno due quindi da sei diventa quattro adesso devo fare il tiro di avanzamento che è in forza devo tirare almeno un 9 per uscirne vivo e sei un prigioniero di carriera e no e invece non esco e ho 62 anni ho un meno 10 al tiro ho tirato meno 3 vediamo sull'invecchiamento vediamo che cosa succede succedono brutte cose secondo me beh si ormai perché ma lo sai adesso scusa allora riduci una caratteristica fisica di 2 riduci 2 e altre 2 invece di 1 quindi ho destrezza 5 che va a meno 1 forza e resistenza 1 resistenza ad 1 perfetto è un mouse grandissimo di resistenza a questo punto o meno 2 cioè con jack of all trades sei tipo quello dal quale vai se hai bisogno che fa qualcosa qualsiasi cosa nella prigione ormai è solo un vecchio ma il tuo posto un po' l'hai trovato purtroppo è stato in prigione se davvero se finisci in prigione tipo che so a 40 anni 50 anni così davvero rischi brutto passi tutta la vita rischi brutto scelgo sempre personal development ho tirato un 2 e milian armed che continua a salire ti ho detto sei un buon prigioniero tiro su survival ho tirato un 12 quindi lo passo anche se ho svariati malus fantastico tiro l'evento 5 ho l'opportunità di entrare a far parte di una gang fai un tiro di persuade o dimmi lì se fallisci guadagni un nemico se riesci devi alzare la tua parola di uno ma guadagni un modificatore più uno a tutti i tiri di sopravvivenza in questa carriera ti puoi avere una di queste skill deception 1 persuade 1 milian armed 1 o stealth 1 combatto chiaramente sai che cos'è combatti contro quella gang contro il leader di quella gang che hai già combattuto prima solo che adesso la posta in paglio e che diventi il loro capocchio il loro anziano ho tirato un 10 più milian armed 2 12 quindi la mia parola risale a 5 però nel frattempo guadagno stealth 1 si sa bene perché beh insomma per sopravvivere nella prigione un po' stare nascosto secondo me ci sta e guadagno 1 più 1 a tutti i tiri di sopravvivenza in questa carriera da criminale cioè da gale 8 quindi adesso devo tirare devo fare un 5 devo fare un 5 più per riuscire ad andarmi da sta maledetta prigione però devo fare un tiro di forza ai 7 in cui io ho meno 2 quindi devo fare almeno un 9 ho fatto un 7 non esco e continuo a invecchiare 66 anni sto guardando i pianeti per capire dove cavolo sei finito in che prigione ho fatto un 7 ho fatto meno 4 beh secondo me Filippide muore in galera basta mi sono stufato fantastico ecco qua secondo me questa galera non era neanche sì però sai muori come tipo leader di una gang sì leader della gang tipo un gale 8 magari hai guidato a che so all'uscita di prigione o nella loro vita dei giovani che sono vinti di prigione a loro volta prima di prima di ecclissarti esatto e quindi da questa creazione dei personaggi ne è uscito solo uno perché l'altro è morto è morto in prigione cioè il gioco è successo qui per te praticamente sì wow fantastico il mio personaggio ne è uscito anche bene il tuo personaggio è venuto figo invece secondo me nel tempo che il tuo è stato in prigione il mio ha fatto probabilmente vita e morte cioè sono uscito con con una scout ship ma è infatti buonissimo no e da qui si può vedere come può andare in complete direzioni diverse il gioco sì e soprattutto il fatto che il mini gioco di creazione del personaggio assolutamente non va affatto separatamente cioè ognuno si crea il suo personaggio perché non ha proprio senso cioè in traveler la sessione è zero è veramente una sessione di gioco perché creare questi personaggi poi alla fine tu vai avanti e sì c'è il discorso della casualità del dato però alla fine ti ritrovi per le mani questi individui con queste vite terrificanti sì è stato assurdo devo dire a un certo punto ti chiedi ma che cazzo cioè praticamente hai speso la carriera nella quale hai speso più tempo è stata la prigione sì alla fine della tua carriera perché non potevi andare più da nessun'altra parte hai incominciato a ladrare poi dopo hai incominciato a dare addosso al governo hai cercato di metterti a fare qualcosa di sincero ma poi perché hai cercato di mettere i bastoni tra le ruote a questa corporazione grossissima beh ti hanno sbattuto dentro e dentro ci sei rimasto e lì se lì sono morto esatto e lì Filippide ha finito la sua vita il discorso è questo adesso tipo Scozia è uscita che tra l'altro ho scelto il cognome Nova Nova Scozia lasciamo stare comunque è Nova e fondamentalmente cioè io adesso potremmo 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 giocare che so lei subentra con degli altri personaggi tranquillamente e poi potrebbe succedere che si finisce dentro un qualche tipo di pericolo che sia che so atmosferico di qualche di qualche posto che esploriamo che so acido oppure che so proprio il vuoto dello spazio o un incendio nella nave o un'anomalia spaziale potremmo finire che so in un assalto di pirati o in un scontro armato altrimenti e cose del genere e potrebbe morire pac così lì sul colpo per dire sì perché effettivamente le armi specialmente le armi diciamo da fuoco come e particolarmente i laser o le gauss fanno dei danni veramente spaventosi perché il calcolo tra virgolette chiamiamoli dei punti vita cioè quando ti vengono inferti dei danni tu vai proprio a tranciare le caratteristiche fisiche e quando le caratteristiche vanno quando la prima caratteristica va a zero sei in coma essenzialmente o svenuto e poi quando la seconda se non sbaglio va a zero sei morto proprio e tra l'altro per recuperare tu hai bisogno della resistenza dunque se la tua resistenza è sotto a un certo tipo di malus e tu praticamente a un certo punto puoi arrivare al punto di essere così danneggiato che anche se vai in un ospedale attrezzato e avanzato e cose del genere rischi di non poter più recuperare perché sei tartassato così male che praticamente muori punto si deteriori e muori e comunque che so spesso i travelers si trovano appunto un po' sul bordo della civilizzazione o in situazioni pericolose o comunque insomma l'avventura è così la trovi le opportunità le trovi nei posti pericolosi può darsi che non non hai strutture di cure vicine a cose del genere magari la tua nave appunto è solo non scout ship e dunque non ha l'autodoc ok e allora è molto facile morire bisogna stare attenti bisogna fare le cose con calma e se vuoi fare l'avventato davvero te la giochi sulla fortuna o sulla preparazione che tu metti in questa tant'è che puoi per esempio puoi morire facendo un salto da un settore all'altro perché sbagli il tiro di astrogazione può finire disperto e finisci dentro un pianeta può finire dispersa la tua nave da qualche parte finisci il carburante e punto finisci così ammarato nello spazio e a un certo punto un altro traveler ti trova e si fa ricco ricco guadagno perché sciacalla la tua nave la vende da qualche parte come però tu puoi essere quel traveler che trova qualcun altro e lì sta tutto il gioco e comunque il gioco è molto più diciamo lento e tipo adesso abbiamo fatto passare intere vite qualche ora il gioco poi rallenta parecchio e si per esempio fai i salti tipo per andare a un parsec mi sa sono quattro settimane o due settimane per spazio e dunque hai anche del tempo per poi giocarti le interazioni intrapersonali della crew e cose del genere può darsi che tu fai passare intere settimane o mesi facendo tipo due o tre tiri sommari come abbiamo fatto adesso però può anche darsi che fai che letteralmente entri in una situazione dove che so ti colleghi ad una nave spaziale o ad una stazione spaziale a una strana prigione dove c'è qualcosa di strano nell'aria ti colleghi a questa e entri nel dettaglio e dunque incominci che so a passare nei corridoi di servizio a trovare delle persone che sono sopravvissute su questo su questo relitto a magari incontrare un'altra fazione cose del genere dunque entri nel dettaglio può darsi che fai molti molti tiri che però simulano il passaggio di molto meno tempo ecco comunque ci sono queste due marce in travel e comunque ogni tiro a ogni tiro di skill nel manuale in genere è assecondato una quantità di tempo in cui l'azione che stai facendo si svolge è una cosa molto sommaria abbastanza abbastanza diciamo non eccessivamente precisa perché in genere è un tot di dati da sei equivalenti a secondi minuti ore giorni e compagnia bella però è interessante per esempio come potrebbe essere interessante come meccanica per esempio in una classica situazione di inseguimento in cui ci sono i membri del gruppo che devono fuggire a bordo di una navetta che magari ha il motore rotto e devono tenere botta perché quando il tiro dell'ingegnere di turno dice sì riesci a ripararlo ma ti ci vorranno che ne so un minuto e mezzo per ripararlo e tu devi stare là a tenere botta contro gli avversari che ti incalzano far passare quel minuto e mezzo di gioco in gioco per poi mettersi tutti a riparo e fuggire è una cosa è una cosa carina diciamo il sistema della gestione del tempo non è che è spiegato eccessivamente però può essere simpatico utilizzarlo per mettere diciamo i mettere i giocatori sulle spine no sul tempo io è interessante perché come puoi avere le spine perché sei stressato devi fare una cosa subito e magari devi tirare su una statistica piuttosto che l'altra anche tra l'altro o magari dei malus perché devi farlo così velocemente può essere anche vero il contrario nel senso hai il tempo sei magari ammarato da qualche parte oppure hai sbagliato un tiro di astrogazione e non sei finito in un astello dentro un pianeta o dentro un asteroide e comunque hai la possibilità di rifarti beh hai tutto il tempo che vuoi per ridirezionare la nave per scandagliare la zona per magari mandare un messaggio di SOS hai tutto il tempo che vuoi e dunque investi più tempo il dice modifier è a tuo favore e dunque diventa più facile il compito c'è anche l'altro lato della medaglia sì 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 esatto interessante nel combattimento quello fisico che so se si abborda o sul pianeta è così anche veicolare in genere il combattimento è 6 secondi il turno mentre nel combattimento spaziale sono 6 minuti e dunque si va in una modalità molto più ragionata è tipo combattimento tra sottomarini tipo dove sì sì esatto perché sono proprio le cannoniere che devono caricare il colpo spararlo tutti i calcoli per prendere la distanza giusta tipo dov'è lui da che angolazione l'approccio mi nascondo dietro che so un detrito un relito spaziale cose del genere dunque quello secondo me questo sistema va va goduto con la giusta lentezza e con la giusta sistematicità e dandosi un sacco di filo a se stessi andare a guardare il manuale capire come funzionano le cose eccetera eccetera come abbiamo fatto adesso che probabilmente ci abbiamo messo stimo dalle 3 ore e passa sì più o meno più o meno comunque comunque come dici tu è già stato gioco praticamente che adesso utilizzeremo questo personaggio perché l'altro non ha sopravvissuto meno probabilmente no perché è meglio magari lo incontriamo come png chi lo sa magari incontrate magari incontrate il corpo sì del tuo sì oppure un qualche diario o cose del genere no sì 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 infatti oppure un vecchio sopravvissuto di una di una di una stazione spaziale prigioniera alla deriva va bene magari non è davvero morto nel senso magari semplicemente è inutilizzabile come personaggio quindi è buttato là da qualche parte però anche scozia si potrebbe trovare come png ok tranquillamente e quando poi lo giocheremo la sensazione che faremo dei personaggi a modino con il gruppo intero perché per esempio adesso io non ho preso Recon perché ero sicuro che lo prendevi te il gioco fa considerazione che tu fai questi ragionamenti sì infatti c'è la nota anche nel manuale che bene o male i personaggi vanno creati tutti insieme perché poi c'è un'ulteriore aggiunta di skill ci sono dei pacchetti di skill che i giocatori possono scegliere e questi pacchetti poi vengono appunto suddivisi tra i giocatori e sono un aiuto ulteriore prima dell'inizio del gioco vero e proprio sono un grande aiuto cioè per il mio personaggio farebbe la differenza tra avere magari pilotare uno e pilotare due ok oppure tra avere che so per il tuo potrebbe fare differenza tra avere che so tra essere vivo o morto per esempio gran gran kombat 0 o gran kombat 1 eccetera eccetera dopo lì ti puoi ti puoi sbizzarrire no lo trovo interessante è quasi un po' un libro game poi il gioco vero e proprio un po' meno strutturato però ti da comunque se vuoi dei degli strumenti per generare missioni sì sì incontri puoi anche partire senza senza la mappa del settore quel lavoro l'abbiamo già fatto sì no ma volendo uno può anche partire senza mappa del settore ogni volta che si va proprio all'esplorazione nuda e cruda a me è piaciuto avere comunque come referenza un minimo di setting che poi dopo lo devi comunque esplorare perché tu hai scritto qualcosa dipendenza di quelle statistiche ma cosa quello contiene nel dettaglio è comunque da vedere è una figata travel mi sono divertito è stato un po' demistificato il fatto come funzionano questi tiri come funziona il sistema il sistema alla fine non è anche tanto difficile i numeri sono piccoli quando definiscono i dadi sotto il tavolo sì quella è l'unica quella può essere davvero l'unica cosa complicata ma a parte scherzi non è non è anzi ha solo essendo molto strutturato dal punto di vista dei materiali cioè perché ci sono veramente tanti materiali tante tabelle tante cose da andarti a leggere può essere può essere può dare un'idea di confusione però poi alla fine si tratta solo di al risultato X assegnarlo alla tabella Y e vedere che cosa succede non è niente così complicato per tornare un po' al discorso birra col GM che vabbè adesso una birra magari ci starebbe per sciacquarsi il gusto amaro della morte del nostro decretto avventuriero esatto nel senso questi giochi un po' old school molto statistici e tabellosi e procedurali soprattutto in un certo senso incoraggiano il vero gioco di ruolo cioè il gioco dove tu tiri il dado e poi devi capire dalle regole e dal dado che cosa succede e farne un senso narrativo quello è una sfida tutta sua e può essere stimolante e interessante beh ma sì il tradizionale non è non va mai buttato alle ortiche c'è sempre il suo perché comunque no perché un gruppo di persone diverse avrebbe potuto fare il lavoro che noi abbiamo fatto che so neanche metà del tempo senza farci sopra tutta la fiction ah beh certo vabbè certo se uno non ha voglia di interpretare quei tiri di dado in fondo il gioco muore su se stesso perché diventa diventa The Sims il gioco di ruolo secondo me è tutto lì nell'interpretare alla fine i risultati l'unica cosa che è diversa opposta con il narrativo è che il narrativo viene prima la narrazione poi i dadi qui vengo i dadi e poi la narrazione sono tutti e due esercizi interessanti e vabbè vedremo poi quando lo giocaremo effettivamente ah sì 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 io ho ancora tutta la cosa scritta quindi sì sì che abbiamo incominciato ad usarla un po' finalmente dopo anni ce l'ho fatta secondo me secondo me buone cose verranno e sì appunto sul canale tuo oppure su qui ma sì è indifferente quello l'importante è giocare a Traveler magari troviamo uno o due altre cavie eh sì per forza e via penso che questo gioco sia molto 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 divertente e godibile se si è in un gruppetto appunto di quattro persone più master da proprio il massimo mi avviso dove per cavie ovviamente ehi mi sto riferendo a voi pazzi che ci ancora se ci state seguendo se mai qualcuno ci segue adesso in futuro dunque se casomai fatevi sentire vediamovi magari giocare a Traveler insieme perché ehi quella quella porta quella rampa dello scout ship è aperta per tutti è aperta per tutti voi a meno che non stiate morendo in prigione ma spero di no esatto dai dunque saluto tutti ci sentiamo alla prossima ciao grazie